In collaborazione con Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza nell'autonoleggio I Due Re Ristorante e pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Dental City Studio dentistico specialistico e CityMed Poliambulatorio specialistico Via Mainini 79 Monte Cassiano Grazie a voi tutti Di averci seguito Appuntamento alla prossima settimana Grazie a tutti Buonasera a tutti Gentili telespettatori Benvenuti ad un nuovo appuntamento Con la nostra trasmissione Dunque è stato un sabato amaro Per il Fano Che non va al di là del pareggio ad Imola E quindi retrocede in Serie D Con la netta sensazione Poi ne parleremo con i nostri ospiti Di un verdetto amarissimo Alla luce di quanto si è visto in campo E di valori tecnici Che pendevano nettamente Dalla parte dei Granata Ma nel calcio è banalissimo dirlo Sono i gol a fare la differenza Mercoledì come certamente saprete E' terminata la splendida Direi memorabile avventura del Matelica Che esce da imbattuta nei playoff Ed ora guarda al futuro Con il tesoretto di una squadra Davvero invidiata da molti In Serie D Era la giornata dei recuperi Ma in realtà Se ne sono giocati soltanto due Tra cui quello del Porto Sant'Elpidio Ad Agnone per cercare di evitare L'ultimo posto Hanno vinto per 1-0 Gli Alto Molisani Per quello che può contare Invece in eccellenza Turno al completo Hanno vinto Gallo Iesina Zurracolli Valdichienti E Portodascoli Due gironi Entrambi estremamente interessanti Ma di questo ne parleremo Nella seconda parte Del nostro programma Per presentare invece Gli ospiti Di questa prima parte Linea e microfono Alla nostra Sara Santacchi Ciao Sara Buonasera a tutti Subito gli ospiti Un bentornato ad Adolfo Cichella Allenatore E Daniele Tittarelli Giornalista Ben ritrovati Grazie Un saluto Daniele Finalmente parliamo un po' Di serie C e serie D Partiamo Daniele con te Dalla nota dolente Di questo fine settimana La retrocessione del Fano Facevamo una botta di conti Prima della trasmissione Cinque campionati di C Due salvezze play out Due retrocessioni Con una riammissione Una sola salvezza Se non sbaglio Nel 2017-2018 Un bilancio Oggettivamente sconfortante Che ha anche prodotto Direi inevitabilmente Una certa disaffezione Nella tifoseria Sì Il Fano Da quando è tornato In serie C Ha sempre vissuto Sul filo del rasoio Ogni anno Parte male Il girone d'andata Conclusi all'ultimo posto O quasi Rimonte da fare Nel giorno di turno Con mercato Che deve sempre Rivoluzionare le rose Quindi è sempre difficile Partire così In salita Risalire alla corrente In certe occasioni Ce l'ha fatta Vincendo il play out Quell'anno Con il Forlì di Gadda Con Cuttoni in panchina Lo scorso anno Con Alessandrini in panchina Conto il Ravenna Però Al terzo play out Disputato La fortuna Ha voltato le spalle Granata Non ci si può Nemmeno lamentare Se magari In questa Doppia sfida I Granata Avrebbero meritato Qualcosa in più Perché quando Non si fa tesoro Degli errori Commessi Nelle stagioni scorse Anche se poi Magari Risollevate Grazie a La missione Oppure grazie a Salvezze Ai play out Poi che è caso Del suo mal Cominci il proverbio Pianga a se stesso Il Fano Nonostante ha cambiato Società Ha sempre continuato Su quella falsa riga E purtroppo Quest'anno Nonostante Avrebbe La possibilità Ce l'aveva pure Insomma Di arrivare O quart'ultima O magari Di espugnare Imola Però Non ce l'ha fatta Senti Rimango un attimo Con te Daniele Perché la sensazione Nettissima E l'ho detto Anche in apertura Che questa squadra Retrocede Doppio Doppio confronto Con la compagine Lo confermo Secondo me Nettamente Più debole Anche in modo evidente Parlo del Limolese Sì Limolese Anzitutto Come il Fano Ha avuto delle Delle assenze Specie all'andata Poi Aveva poche Individualità di spicco Per la categoria Una squadra Che ha sempre Navigato nei bassi fondi E anche nel doppio confronto Ha dimostrato Di essere Forse inferiore Granata Le occasioni più nitide Anche all'andata L'aveva avuta La squadra di Tacchinardi Ieri a ritorno Nonostante Perdeva 1 a 0 Ha avuto La forza di pareggiare Anche di avere Una grande occasione Nel finale con Barbuti Però Ecco Il favore Del doppio pareggio Alla fine Ha riso All'imolese Allo stesso tempo Al Fano E' mancato quel quid Che poi è mancato Nel corso di tutta la stagione E' uno degli attacchi Pionemici del campionato Difficoltà nel far gioco E nonostante un avversario Alla portata Non è bastato Per evitare la retrocessione Allora Un problema enorme Come ha detto Giustamente Daniele Tittarelli Daniele Tittarelli È stato il reparto offensivo 32 gol realizzati Peggio Ha fatto soltanto La fermana con 31 Ma la fermana Aveva una delle migliori difese Del campionato Ma soprattutto Direi un clamoroso Deficit Nel Fano Tra gioco prodotto E reti Di messi a segno Non vogliamo gettare La croce addosso a nessuno Ma il centrocampo del Fano Per esempio È un centrocampo Di ottimo livello Perché poche squadre Secondo me In Serie C Possono avere Gente come Carpani O Amadio In difesa Ci sono elementi di spessore L'attacco è mancato Indubbiamente Io l'ho vista L'ho vista Con il Materica E ho avuto la sensazione Che nonostante Il centrocampo Fossero abbastanza Equilibrati Con dei giocatori interessanti Paolini Amadio Davanti Forse è mancato qualcosa Sai Le annate Sono un po' particolari Quando si parte Sempre in sofferenza Poi i giocatori Fanno fatica A trovare quella condizione E soprattutto La fiducia Nei propri mezzi Perché Di Barbuti Si è sempre parlato Molto bene Però Alla resta dei conti Forse qualcosa è mancato Quest'anno sicuramente Sì Insomma Anche poi Vedremo il servizio Il gol Fallito al 91esimo Grida vendetta Sicuramente Come ti dico Io penso che a volte La fiducia Sai quando giochi Per salvarti Il calciatore Perde un pochettino Tranquillità Soprattutto gli attaccanti Se poi non c'è C'è la possibilità Di far gol Diventa tutto Un po' più problematico E ti dicevo Le aspettative Non ho forse Qualcosina Un po' Un pochettino Un po' più Meritevoli Però Devo dire Che è mancato Certo Torno a dire Che c'è stato proprio Un deficit Tra il gioco prodotto Ma questo per tutto Il campionato E i gol messi a segno Perché poi Il Fanno Le occasioni Le avute sempre E anche In buon numero In qualche circostanza Ma non sono Corrisposti i gol Come ti dicevo Io ho visto Questa tendenza A produrre il gioco A produrre le occasioni Da gol Ne erano veramente In quella partita In particolare La sensazione Che facevano molta fatica A produrre Le occasioni da gol Non c'è dubbio Però Daniele Il Fanno È ripescabile O meglio Riammissibile Anzi È tra le squadre Che hanno più possibilità Adesso diciamo Che con la retrocessione Sul campo Troppo fresca È anche Difficile Fare previsioni Tutto credo Dipenderà Da come il presidente Enrico Fattoffi I danni al suo primo anno Nel calcio Supereranno Questa grande delusione Perché tra poco Sentiremo anche L'intervista L'abbiamo visto Comprensibilmente Molto abbattuto Dopo questa mazzata Ma Sicuramente Da vedere La gradatoria Delle riammissioni Che entrano in gioco Poi per eventuali Mancate iscrizioni Non Quindi lì Sarebbe Se il Fanno Dovesse essere Come sembra Nelle prime posizioni Una strada percorribile Perché non c'è Da pagare la sovrattassa Insomma Versare Quelle tasse Esose Che servirebbero Per il ripescaggio Quindi il ripescaggio Lo vedo Difficile Anche dal punto Di vista economico Se c'è la possibilità Della riammissione Come avvenne Qualche stagione fa All'epoca di Gabellini Sarebbe un treno Da 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 prendere Anche perché Magari l'estate Sarà difficile Per Si ipotizza Per diverse società A livello di iscrizione Se potesse Aprirsi Di nuovo Questa strada Già percorsa In passato Sarebbe bene Che la società Insomma Ne prendesse In considerazione Anche perché Poi eventuali Pescaggio Come detto prima Costerebbe risorse Forse Troppo Esose Ai giorni d'oggi Vediamo che spesso La perseguono Solamente società Forti Tipo il Modena Reggiano Negli anni precedenti Però è logico La retrocessione Ad oggi Bisogna guardare A quello che è accaduto Agli errori commessi Da questa nuova società Che si Che aveva L'obbligo Il dovere Di capire Gli errori fatti Dalla precedente gestione Magari riportare Anche se Purtroppo si è giocato Porti chiuse Entusiasmo Attorno a questa società Anche certe scelte Sul mercato Sono sembrate sbagliate A gennaio Perché ci si è liberati Di Baldini Più che Cittadella L'ha preso È sembrato In tutto il mercato Di gennaio Quasi che il Fano Volesse privarsi Di Baldini Non che Volesse cedere Questo giocatore Come gioiello Lo stesso Parlati Che era un ottimo giocatore Che è stato ceduto Un po' Corleggero E quindi Anche lì A gennaio Dove Nelle precedenti stagioni Magari la società Era intervenuta Con quei correttivi Che poi Avevano fatto Svoltare il Fano Quest'anno Forse non è stato così Proprio perché si è perso Qualche pedine importante Urso che è arrivato Era infortunato Si è inserito Solo nelle ultime giornate E anche le dimissioni Di destro Un combattente nato Che è sempre stato abituato A non mollare mai Fino all'ultimo secondo Hanno forse fatto accendere Quel campanello d'allarme In anticipo Che qualcosa Non gli quadrava Nell'organico O comunque sia Nella gestione Della squadra Certo Aggiungo soltanto Per completezza Che poi Nel momento decisivo Sono venuti a mancare Paolini e Marino Che si sono infortunati Anche in maniera Pesante Poi c'è stato anche Il discorso Covid Che ha inciso Proprio nel momento Proprio dei play out Nel momento decisivo Della stagione Andiamo a vedere O meglio a rivedere Insomma Gli highlights Di Molese Fano E vedremo appunto Come il Fano Soprattutto nel finale Abbia avuto davvero Tante grandi possibilità Per svoltare la partita Non ci è riuscito E forse Ragione davvero Daniele Chi è a causa del suo mal Alla fine Non deve fare altro Che piangere se stesso Vediamo L'autonoleggio Alidama È il leader Nel settore del noleggio A breve e lungo termine La nostra flotta È costituita Da utilitarie medie E alta gamma Per aziende Privati e professionisti Inoltre Disponiamo di van Minivan Furgoni Furgoni frigo E pulmini In nove posti Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza Nell'autonoleggio Il fano retrocede Ed è un verdetto Incredibilmente amaro Considerando i due pareggi Nelle sfide dei play-out Ma soprattutto il fatto Che a salvarsi è Limolese Che non ha assolutamente Nulla di più Rispetto ai Granata Che pagano pesantemente Il differenziale Clamorosamente negativo Tra le occasioni create E i gol realizzati Un problema che l'alma Si è praticamente trascinata Dall'inizio della stagione E che si è evidenziato Anche nelle due partite Più importanti dell'anno Nel calcio Chi segna è notorio Ha sempre ragione Ma senza gettare La croce addosso a nessuno È lampante Quasi è imbancato al fano Per raggiungere Un obiettivo abbordabilissimo A prescindere Dall'ennesima prova Superlativa Del portiere di casa Gian Maria Rossi Al Galli Mister Tacchinardi Recupera carni e lutti Con Monti Confermato in difesa Ebrero Negativizzato dal covid In panchina In attacco Al fianco di Barbuti C'è Ferrara Almeno inizialmente Al posto di Nepi Cambi anche nei romagnoli Soprattutto in attacco Dove Tommasini e Bentivegna Partono nell'undici titolare La tensione Come spesso capita In questi casi Si taglia con il coltello E nel primo tempo È il fano Che ne paga maggiormente Le conseguenze Lasciando troppo spazio Agli avversari Che comunque dimostrano La loro non irresistibilità Ed allora Sono i grifoni Rossoblu A rendersi minacciosi Anzitutto Con un'incursione di Masala Ed un tiro a botta sicuro Intercettato da uno stesso Attaccante imolese Al 28esimo Poi punizione Dal lato cortosinistro Dell'area di rigore Di Bentivegna Traiettoria tagliatissima Con il pallone Che rimbalza Davanti a Viscovo E termina Fortunosamente sul palo Senza che poi nessuno Sia pronto Ad effettuare Il tap in vincente L'Alma si fa viva Al 42esimo E sarà un episodio Che farà discutere Barbuti controlla di petto Un pallone al limite C'è un contatto Più che sospetto Con Carini Ma Marcenaro di Genova Lascia proseguire L'azione continua E la difesa dell'imolese Con grande affanno Riesce a spazzare Il match cambia Fisionomia nella ripresa Dentro Montero per Monti Ed il fano Comincia a spingere di brutto 14esimo Ferrara è vivacissimo Sulla fascia Effetto un cross Per la testa Dell'incustodito Rodio Ma Rossi Compia il suo primo Grande intervento Respingendo la conclusione Da distanza ravvicinatissima Sull'angolo successivo Inzuccata di Cason Anche lui In beata solitudine Ma l'impatto è da dimenticare E la traiettoria Finisce altissima Sulla traversa Poco dopo Rodio ha una buona opportunità Sulla destra Rimette in area Dove Carpani Non riesce a deviare il pallone La netta sensazione È che il gol maturi Ferrara si allunga il pallone Permettendo il recupero Del portiere Rossi Poi al 28esimo Sugli sviluppi Di un calcio di punizione Carpani tocca in area Il portiere respinge E Carnielutti Da mezzo metro Colpisce una clamorosa traversa Con Cason Che poi non riesce a chiudere Limolese parte allora in contropiede Ma non riesce a sfruttare La superiorità numerica Due contro uno Con Aurelio Che si incarta Dentro anche Nepi per urso D'altronde non c'è più nulla Da difendere Amadio appoggia a Sarli Buona il suo traversone Testa di Montero Ma ancora una volta Mira imprecisa Da mordersi i gomiti Così al 37esimo Arriva la beffa Che sembrerebbe Chiudere i giochi Rondanini In becca masala In area Che tra due difensori Coglie in controtempo Viscovo Ed in sacca I romagnoli festeggiano Perché a quel punto Sembra davvero fatta Ma la gara riserva Ancora tantissime emozioni Passa un minuto E Torrasi Gianmonito viene mandato Anzitempo sotto la doccia Per questo ingenuo Intervento su Nepi Da cui scaturisce Anche un abbozzo di rissa Al 42esimo L'Alma riprende coraggio Carini va Clamorosamente a vuoto Sul lancio dalle retrovie L'occasione è troppo ghiotta E stavolta Lo spagnolo Montero Non se la lascia sfuggire E di sinistro Trafiggerossi in uscita Si riapre il cuore Alle speranze 91esimo Sponda di Montero Che smarca Barbuti Solissimo in area Ma l'attaccante Sciupe in maniera Davvero indegna Una chance più unica Che rara 93esimo Carnielutti Tocca morbido in area Montero stoppa Benissimo di petto Ma tira in maniera precipitosa E calcia altissimo A quel punto Che causa del suo mal Non può far altro Che piangere se stesso E dal 95esimo Spaccato L'arbitro Sancisce con il triplice fischio La retrocessione del Fano Davvero dura da digerire Per tutto quello Che abbiamo visto In sede di Cronaca Nel dopogara L'infinita tristezza Del presidente Offidani E le recriminazioni Di Tacchinardi Uscire così Grida davvero vendetta In questo momento La sensazione che è maggiore È quella dell'amarezza È vero che è un campionato Che ha seguito sempre Questa trafila Noi creiamo, creiamo E non riusciamo a segnare Ma oggi, oggi sinceramente È stato proprio il colmo Il colmo Intanto aggrapparsi Ormai l'abito ha fischiato È finita L'obiettivo minimo Che mi ero prefisso Io mi assumo Tutte le responsabilità Se l'Alma Juventus Fanno in questo momento Retrocessa in Serie D Tutto deriva Dalla mia scena Forse non ho saputo Prendere le redini Più fortemente in mano Quando c'era bisogno Io non so Ai ragazzi Non si può Non si può rimproverare nulla Al mister Che è venuto a giocarsi La sua chance In un momento Così difficile Nessuno si è tirato indietro Però Questa è la mara verità Ci ritroviamo Retrocessa in Serie D E Il momento Questo momento È il momento dell'amarezza Io Non so Poi Più là Rifletteremo Vediamo Che cosa fare In due partite Il Molese Non ha Non ha Meritato Di 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 Ristare in Lega Pro Perché La mia squadra L'ha fatto Molto Molto di più Oggi Non c'è stato dato Un rigore Un rigore clamoroso Abbiamo creato Sbagliato Traverse Parati dal portiere Qualcosa di incredibile E quindi È una È un'altra sessione Che Non merita la mia squadra Ma la mia squadra Non ha perso Qua È solo Una classifica Che sarebbe Naturalmente diversa Però Creiamo tanto Creiamo tanto 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 Non riusciamo a far gol Quindi questo è Ognuno poi dopo Farà le sue valutazioni Perché il campo parla Il campo parla E parla ben chiaro Quindi Ognuno poi Farà le sue valutazioni Su quello che non è andato E quello non è andato Ma la mia squadra Con tutte le problematiche Che può avere Tutte le situazioni Che può avere Non ha perso Ma ha fatto due pareggi E oggi E oggi Meritava nettamente La vittoria Abito a parte Che non ha dato Un rigore Che è stata una roba Pazzesca Mi dispiace Che in due partite Questa squadra qua Abbia fatto solo un gol Che poteva fare Nel minimo Minimo Tre o quattro in più E quello è il mio Rammarico Rammarico grosso Perché Rimolese Oggi nel secondo tempo Ha fatto mezzo cross E all'andata Un cross E quindi insomma Uscire Con due pareggi Così Fa molto male Detto questo Avanti Io adesso Mi voglio rilassare Dopo due mesi e mezzo Che è stato molto duri Però Con una ferita forte Perché questa squadra qua Non meritava Mi dispiace Per la gente Poi come ho detto Prima ognuno Fare le sue rotazioni Anch'io le farò Ma adesso Adesso è troppo forte L'amarezza Per Non essere riuscita A vincere Anche questa partita Che ha del clamoroso Caldaia sicura Riprendono gli accertamenti Agli impianti termici In base alla normativa vigente Gli impianti termici Devono essere sottoposti Al controllo di efficienza energetica E ad una regolare manutenzione Se un impianto termico Non funziona bene Ci sono grossi rischi Per la sicurezza delle persone E per la tutela dell'ambiente Un impianto efficiente Permette di risparmiare Fai la manutenzione periodica Della tua caldaia Metti al sicuro Te e la tua famiglia E non incorri in spiacevoli sanzioni Rivolgiti subito Al tuo manutentore di fiducia La tua sicurezza È il bene più importante MPSPA Meglio E prima Quando si sbagliano ad Adolfo Certi gol Lo chiedo a te Come ex attaccante Che si vuol dire Insomma una squadra Che ha prodotto Almeno dieci palle gol limpide Nel secondo tempo Come abbiamo visto Purtroppo Quando si sbagliano Quei gol importanti Alla fine Diventa tutto Più problematico Le ultime occasioni Sono state effettivamente Abbastanza clamorose Quella di Barbuti In particolare Però come dicevo Paura di segnare Tremando le gambe Perché a 5 metri dalla porta Insomma che la spara le stelle Sì Credo che sia stata Una retrocessione Tra virgolette Un po' buttata Si grida vendetto Sicuramente Perché le azioni finali Poi tra l'altro Con una squadra Io l'ho vista Anche L'avevo vista Con il Matelica Non mi sembrava Tra le più agguerrite Una squadra Abbastanza perforabile Nella parte Nel reparto difensivo Il fan ha avuto Tutte le occasioni Per portare a casa Una salvezza Importantissima Perché purtroppo Nel calcio Quando ci sta di mezzo Una retrocessione Poi le cose Sono veramente È un dramma sportivo Sì Però Qui volevo Ricoinvolgere Daniele C'è da dire Che per quello che sappiamo noi Il bilancio del club Granata in ordine C'è stata una gestione Oculata E questo potrebbe essere No Daniele Una spinta importante Per cercare di ripartire A prescindere Dalla riammissione O no In Serie C Sì Il fano Negli anni Prima nella gestione Gabellini E poi In questa prima stagione Con Fattofi Dani Ha sempre Gestito bene La società Ma i punti di penalizzazione Bilanci sempre in ordine Questo è sicuramente Un punto a favore Che tutti Hanno sempre riconosciuto La società Granata Negli ultimi anni E comunque sia in generale E comunque sia in generale sempre Però è logico che la tifoseria È stanca di campionati Anche di Serie C Ma sempre Sull'orlo della sofferenza Quindi Nell'ipotesi in cui Dovesse essere Serie D Ha sicuramente costruito Una squadra ambiziosa In grado di riaccendere La fantasia L'entusiasmo del popolo Granata Se dovesse essere la missione In Serie C È bene che la società Rifletta Su cosa serve Per soffrire meno Specie Progettando partenze Più Più ordinate Per quanto riguarda Gli organici Gli allenatori Cioè un progetto Ben definito E strutturato Cosa che Negli ultimi anni Non è mai avvenuto O meglio È sempre stato costruito In corso d'opera E questo Alla lunga ha pagato Perché le partenze in salita Hanno fatto sì Che poi I giorni di torno A volte sono stati entusiasmanti Ma comunque sia sempre Sul filo della sofferenza Assolutamente È stato quasi sempre un calvario Senti Daniele Andiamo per un attimo Con te alla Samba Dove Credo sia doveroso Un barlume Ed anche più di un barlume Di ottimismo Perché il neoproprietario Roberto Renzi Si è messo al lavoro Sarà Lo ricordo Una sorta di corsa Contro Diciamo contro il tempo Perché Deve essere perfezionata L'affiliazione Entro sabato prossimo Poi entro il 10 giugno Deve esserci L'ok Da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio Entro il 28 giugno Il pagamento Dei debiti sportivi A quel punto Nulla osta Per il mantenimento Della categoria Difficile fare previsioni Perché siamo al 30 maggio Ma mi sembra Che ci siano Delle premesse Come potrei definirle Confortanti Perché mi pare Che si sia messo all'opera Anche con cose concrete Perché ha subito portato Un assegno Poi ha portato il saldo Quindi è già un buon partire Ma vabbè che a San Benetto Tutto il contrario di tutto Può sempre accadere Però Se un imprenditore Ha già versato 540 mila euro Per rilevare la società Penso e spero Che abbia le idee chiare Di tutto ciò Che lo aspetta in seguito Perché non è che finisce lì Quindi Penso che chiunque Avesse versato Una cifra simile Era conscio E consapevole Che non poteva fermarsi lì Ma quindi aveva fatto Un processo contabile Ben definito In modo tale Da arrivare a tutte le scadenze Che tu hai detto Preparato e pronto Dal punto di vista Appunto economico Quindi E poi si versano Scusami 540 mila euro Con l'intenzione Di rimanere tra i professionisti Questo mi pare Esatto Assodato Esatto Anche perché poi Ecco Nel caso in cui queste scadenze Non saranno temperate Nei prossimi giorni Nei prossimi settimane Tutto andrebbe perso La società perderebbe Non avrebbe l'affiliazione Sarebbe persa La serie C E sarebbe Oltre che tempo Ma soprattutto Denaro sprecato Quindi Trattandosi di un imprenditore Che sembra serio Dal punto di vista Delle intenzioni Tutto dovrebbe andare A buon fine Perché L'avvio è stato Sicuramente positivo Ha conquistato la gente La fiducia della gente Con fatti concreti Non con parole Come era accaduto Nella precedente gestione E come è accaduto Con altri personaggi Che mi lantavano Di prendere O comunque sia Di partecipare all'asta Che poi in realtà Si sono o di leguati O comunque sia Hanno fatto una breve apparizione A San Benedetto Ha partecipato invece Il coreano Kim Che invece Dovrebbe essere interessato A rilevare una quota Del Pescara Ma di questo Ovviamente Ne parleremo successivamente Adolfo Veniamo al Matelica Che tu hai seguito Abbastanza Ti ho visto spesso All'Elve Recina E che ha concluso Mercoledì Una stagione Che resterà memorabile Certo Visto l'avversario Con tutto il rispetto Se ci fosse stata Contro i Renate La possibilità Di giocarsela al meglio Credo Che i Biancorossi Avessero avuto Grandissime chance Per spuntarla E giocare oggi Contro il Padova Guarda Sicuramente Il Matelica Il campionato È stato straordinario Anche i playoff Sono stati Una conseguenza Del campionato Svolto La partita Con Renate Lascia un po' Di amaro in bocca Visto la Devo dirti Personalmente Poi ne abbiamo Anche parlato Credo Non sia stata Dalle squadre Più spettacolari Che abbiamo visto All'Elve Recina Quindi era Molto più abbordabile Di quello che è stato Il risultato Però c'è da dire Che purtroppo Il Covid Dal mio punto di vista Ha condizionato Al di là delle mancanze Credo che La situazione Che sarà creata La domenica mattina Sia stata una cosa Che a livello psicologico Ha condizionato Un po' Tutto l'ambiente Al di là Di chi ha giocato Perché chi ha giocato Effettivamente Ha svolto il proprio compito Nel migliore dei modi E secondo me Purtroppo Il Covid In quella partita Ha inciso In maniera particolare Poi c'è da dire Che anche il ritorno Nonostante tutto Il Matelica Ha avuto anche La possibilità Di poter passare il turno Però sai Questo è un campionato Che a fine maggio Le risorse fisiche Sono abbastanza limitate Quindi Probabilmente Qualche cambio in più Nel ritorno Forse Era 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 più utile Sì ma è stato tutto Un po' il complesso Perché al di là Degli 11 giocatori assenti Mancava l'allenatore Mancava il vice Tutto è stato Un complesso di cose E nonostante questo Il Matelica È uscito da imbattuto Dai playoff Sicuramente È uscito da imbattuto E questa è una Una cosa importantissima Io credo che Come ti dicevo Il Covid Ha condizionato L'ambiente Perché credo Anche i calciatori Che erano negativi Si sono risentiti Un pochettino Della situazione Che si era creata E non credo che il loro rendimento Sia stato al 100% Rispetto alle altre partite Comunque diciamo Che un background mentale Di un certo tipo Qualche riserva mentale Anche nei giocatori negativi Sicuramente Ma c'è da dire anche una cosa Che io credo che Nell'occasione Soprattutto del Matelica La presenza di Colavitto Fosse importante Possibile che l'allenatore Possa portare Dei punti Io credo che in quel momento Per come lui gestiva la squadra La sua assenza Nelle due partite Di playoff Sono stati importantissimi Perché sicuramente Se c'era lui in panchina Io credo che qualcosina in più Si potrebbe avere inciso Si giocava E qui Faccio una breve Disgressione Sui temi nostri Si giocava Perché contro I Renate Che poi alla fine Era giunto Al terzo posto Del gironi E questo secondo me Daniele ripropone Anche la questione Sui gironi Che già quest'anno Erano disomogeni Come forze Che l'anno prossimo Potrebbero davvero Esserlo ancora di più Tra l'altro Qualche voce Sussurra Che si pensa Di ridisegnare I gironi In modo diverso Pensiamo A quello che potrebbe essere Il girone C Di Serie C L'anno prossimo Con la presenza Di Catania Palermo Taranto Messina Avellino Cosenza Bari Catanzaro Pescara Campobasso Non una sorta di B2 Ma veramente una sorta di B1 Il Renate terzo in classifica Nel girone A Secondo me Il girone B Avrebbe avuto problemi Ad agguandare i playoff Così E a lume di naso Sì Ma anche il girone C Per quanto affascinante Bello Con piazze importanti In grado di portare allo stadio Quando possibile Senza il Covid 15 20 mila spettatori Anche di più Però Dal punto di vista tecnico A parte qualche squadra Forse fino alla terza Quarta in classifica Secondo me Il girone B Al di là dei nomi Che non sono così altisonanti Come quelli del girone C Però il girone B A livello tecnico È il campionato più elevato A mio avviso Lo è stato in passato Sin dai tempi In cui Spal e Pisa Con la maciatese terza Spal e Pisa Riuscirono a A vincere tutto E salire di categoria Il Venezia l'anno dopo Esatto Il Venezia l'anno dopo Ma anche quest'anno È riuscito a portare Fino in fondo Comun che sia Il Padova Che è la testa di serie Il Sud Tirol E la Ferral Pisa Con il Modena Eliminato al 95 Cito anche il Pordenone Di Rigordi Viene promosso E sfiora la serie A Addirittura l'anno dopo Esatto Quindi Ecco Il girone C È il più entusiasmante Il più bello Dal punto di vista I nomi E del calore del pubblico Quando gli stadi Sono aperti Però il girone B A livello tecnico A mio avviso Era e resta Il più competitivo Sei d'accordo Adolfo Su questo? Sicuramente sono d'accordo Io credo che quest'anno Sia stato un anno particolare Perché questo Un anno particolare Nel senso che purtroppo Sono mancati gli spettatori E credo che nel girone C Gli stadi Fanno un po' la differenza Il calore del pubblico Nel girone C Incide molto Per quanto riguarda I risultati Perché sono ambienti particolari Si vanno su piazze caldissime A volte Diciamo Con il pubblico Sicuramente La resa È maggiore Per quanto riguarda L'aspetto tecnico Credo che effettivamente Il girone B Qualcosina in più C'era Io l'ho visto Quasi tutte le squadre E tante volte Si era guardato Anche I punteggi Delle squadre Di alta classifica Effettivamente C'era una differenza Rispetto agli altri gironi Ha prodotto l'undicesima Che poi è andata Nel playoff La Virtus Verona Assolutamente sì Parliamo della Virtus Verona Appunto Ma nel girone B Per esempio Prendiamo proprio A titolo esemplificativo La Virtus Verona Che comunque È una squadra Che ha dei valori Che ha dei valori importanti Pensiamo anche La Vispessero Che è rimasta fuori Dai playoff Che comunque Vai a leggere l'organico È una signora squadra Stesso di casi A mio avviso Anche per la fermana Cosa che Forse nel girone A Non si può dire Altrettanto Sicuramente Io la Virtus Verona L'ho vista in casa Con il Materica Ma c'è da dire Che anche il Mantua Ha restato fuori Dai playoff Che il Mantua Credo che era Uno delle squadre Reparto avanzato Gaz che dira Zigoni Erano tra i più importanti Della categoria E nonostante tutto È una buonissima squadra Ma non è rientrato Nella griglia Assolutamente E infatti Qualcuno Suggerisce un po' Di ridisegnare La composizione Dei gironi Per riequilibrarli Appunto Almeno a livello Di forze Perché non è la stessa cosa Giocare al Città di Meda Contro il Renate Oppure andare L'anno prossimo Al Massimino di Catania O al Barbera di Palermo E a questo proposito Rivediamo Alcune fasi salienti Appunto di Renate Materica Che si è giocata Mercoledì Il miglior biglietto da visita È il vostro sorriso Dental City Il nuovo studio dentistico Offre la gamma più completa Di servizi e specializzazioni In ambito odontoiatrico Il dottor Pasquali Specialista in ortoniato donzia Dirige uno staff Altamente professionale Che si avvale anche Della consulenza Della migliori università italiane Dental City Il miglior sorriso Al miglior prezzo Attenzione Se cerchi specialisti In ambito medico Chiama CityMed Centro medico specialistico Tanti professionisti E esperti Con esperienza Impegnati nella ricerca E nello studio Delle più aggiornate tecniche E terapie mediche Dental City E CityMed A Monte Cassiano Presso il nuovo centro commerciale In via Mainini 79 Ho un pallino nella testa Che non è portare il Matelica In serie A Ma realizzare un progetto Del territorio Legato soprattutto Al settore giovanile Mi piacerebbe cercare Di fare qualcosa di serio E duraturo Un progetto Che deve svilupparsi In 4 o 5 anni Per vederne i frutti E da cui sono convinto Che possano emergere Dei ragazzi Sia per la nostra prima squadra Ma magari anche Per qualche serie superiore Un progetto Oltre che sportivo Anche umano E sociale Con lo scopo Di formare dei ragazzi Non solo tecnicamente Ma anche dal punto di vista Scolastico E caratteriale E la voce di Mauro Canil Padrone del Matelica Sarebbe stato bellissimo Continuare a sognare Con questi ragazzi Ma purtroppo Per la situazione Che si era venuta a creare Era impossibile Chiedere loro qualcosa in più Siamo usciti a testa Altissima dai playoff Faccio i complimenti A tutto il gruppo Per lo straordinario Risultato raggiunto Resta forse L'unico rimpianto Di non essersela giocata Ad armi pari Contro un avversario Apparso tutt'altro Che irresistibile Come il Renate Ma non cambia assolutamente nulla Nel contesto Di un'annata sportiva Che era E resta Indimenticabile Ricordiamo Che abbiamo avuto ospite Pochissime settimane fa Proprio il direttore sportivo Francesco Micciola Insieme a Colavitto Avranno mille richieste Daniele Come d'altronde È giusto che sia Tra l'altro Non sarà semplicissimo Tenerli Però lo stesso Micciola Qui nei nostri studi Ha detto comunque Che se ci fosse Un progetto interessante Avrebbe piacere Di restare A Matelica Barra Macerata Ma Sicuramente Matelica Una società solida Con il presidente Canil Che ci ha abituato Negli anni A costruire sempre Organici ambiziosi Sì in serie D Adesso in serie C È da capire Ecco Se ci sono le basi E le potenzialità Per migliorare ulteriormente Perché sia Micciola Che Colavitto A Matelica Hanno scritto la storia Portandola per la prima volta In serie C E Aguantando i playoff Quando nessuno La scorsa estate Se lo sarebbe immaginato Quindi Hanno fatto tanto Nelle prossime settimane Dovranno valutare Il progetto E capire Se ci sono le basi Per confermarsi O comunque sia Fare un passettino avanti Nel caso in cui Magari Dovessero vedere Che il meglio Da loro È stato dato Farebbero anche bene A valutare altre opportunità Però è logico Che lasciare Una società come Matelica Che è sempre abituato A progetti importanti È difficile Quindi insieme A presidente Canil Fanno bene A valutare il tutto Sedersi a tavolino E capire Se ci sono le prospettive Per crescere Secondo te Adolfo Che possibilità ci sono Che questo binomio Rimanga a Matelica Guarda io penso Che il direttore Del ministro Colavitto Abbiano Sicuramente Abbiano le idee chiare Lasciare una piazza Come Matelica Secondo me È difficile Bisogna pensarci un po' Bisogna pensare un po' Io credo che Adesso ascoltavo le parole Di Daniele Il Matelica Quest'anno ha fatto qualcosa Di straordinario Migliorare Significa andare in serie B Però io credo che il Matelica Nel suo percorso Potrebbe anche Fare un'annata Dove Come ti dicevo prima Trovare la salvezza Anche strada facendo Alla fine L'obiettivo È un obiettivo 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 Tra Ecco Secondo me Possibile Tra i professionisti Continuando La loro Diciamo La loro strategia Aziendale Che è quella Di avere un bilancio sano Scegliere i giocatori giusti Non spendere cifre astronomiche Comunque c'è davvero Scusami Adolfo C'è davvero l'impronta Del direttore sportivo In questa squadra Sicuramente Perché vai Ad analizzare Tu comunque Prendi giocatori Che provenivano anche Da squadre retrocesse Pensiamo all'Arzignano Dell'anno scorso Giocatori da rilanciare Giocatori Semisconosciuti O sconosciuti Per la Serie D Prima parlavamo Di De Santis Ma anche Moretti Giusto per dire L'unico acquisto Un po' roboante È stato Emilio Volpicelli Che comunque Non è che veniva Una stagione esaltante A San Benedetto Guarda Tu sai sicuramente La mia vicinzia Con il direttore Quindi magari Non posso che parlare bene Del direttore E esaltarne le sue qualità Sicuramente È facile però Lui quest'anno Ha lavorato benissimo Ha scelto i calciatori Magari Chi conosce A fondo il calcio Sa che Era un giocatore interessante E lui Si è potuto scegliere Con costi molto ridotti Rispetto a tanti altri calciatori Io ti dico Moretti Come ti dissi L'altra volta Io l'ho allenato con lui Quando eravamo a Giuliano E sapevamo Che era un ragazzo interessante Lo stesso De Santis Che viene Da campionati direttantistici E lui È cresciuto Con il direttore Dall'eccellenza È passato Da serie D In serie C E quest'anno La parte finale Del campionato Devo dire Che è stato veramente Un baluardo Incredibile Per quanto riguarda Il materico La sua crescita È stata esponenziale E quindi Come ti ripeto Credo che nel calcio Le valutazioni Devono essere fatte Sempre in maniera oggettiva Ed è gente Che sa il proprio mestiere Il problema forse È trattenere Insomma Questo zoccolo duro Di giocatori Che presumo Abbiano delle richieste Anche importanti Di un certo tipo I Balestreri I Calcagni Lo stesso De Santis Ma Moretti Leonetti Insomma L'elenco è abbastanza lungo Si sono valorizzati Tantissimo In questa stagione Molti Come hai detto tu Provenienti Da Campionati Anonimi Da retrocessione Della scorsa stagione C'erano parecchi dubbi Inizio stagione Su questo Matelica Ma ha dimostrato L'intero organico Chiunque è stato chiamato In causa Di avere fame Voglia Grinta Lo stesso Magri Che è cresciuto Partita dopo partita Proveniva dalla Serie D Il gol di Cesena Al 98esimo Ha fatto vedere Proprio la fame La voglia di arrivare Perché quella palla lunga Si lanciata lì Ma hanno vinto Due o tre contrasti Seconde palle Sono andati Con la cattivella La voglia di cercare Anche nell'unica occasione Che avevano Di far gol Ma anche durante la stagione Tante partite Penso a Ravenna E anche altre Le hanno raddrizzate O vinte così Proprio per la voglia Di non dare nulla di scontato Di giocarsi Fino all'ultima palla Si L'ultimo gol di Cesena Hai ragione È stato proprio La sintesi della stagione Può sembrare casuale Finita Partita veramente finita Comunque palla Che arriva dalle retrovie Colpo di testa di Magri Se non sbaglio Che fa sponda Balestrero Che si lancia Con una incredibile E ancora prima Un colpo di testa Poi il colpo di testa I calciatori Nel modo giusto Perché come ti dicevo L'altra volta I nomi a volte Non sempre portano I risultati Il campionato di Serie C È un campionato particolare Dove la voglia La fame La corsa Diventa determinante E quindi Micciola Tu mi dici Andrà a cercare Tra i giocatori del Fano Tra quelli del Ravenna Io credo che lui sappia Già Abbia Un'idea ben precisa Di cosa fare Perché lui sicuramente A questo punto Della stagione Se dovesse Restare a Materica C'ha le idee chiare Ha già secondo te Individuato Chi potrebbe Essere rinforzi Per la prossima Il direttore sportivo serio Non può decidere All'ultimo momento Sa cosa fare E Daniele Tra qualche giorno Sapremo anche Se proseguirà Il rapporto Tra la Fermana E Giovanni Cornacchini Un rapporto Che è stato Estremamente fruttuoso Per entrambi In questa stagione Penso che ci siano Anche le possibilità Per continuare Perché la Fermana È una società Molto solida Da questo punto di vista Si sa il budget Che si ha a disposizione Quindi si gioca Un po' a carte scoperte Credo Sì Penso E mi auguro Che il rapporto Possa proseguire Perché secondo me Cornacchini È l'allenatore ideale Per la Fermana E la Fermana È la società ideale Per Cornacchini Una società Ecco Desiderosa Di fare campionati Tranquilli Ma di crescere Stagione dopo stagione Una società solida E allo stesso tempo Cornacchini è un allenatore Molto concreto Che sa valorizzare I gruppi Che gli mettono a disposizione Anche con individualità Non Stratosferiche Che seppur ha vinto Che seppur ha vinto Anche a Bari Con rose importanti Quindi vedo caratterialmente Tecnicamente Cornacchini La figura adatta Per proseguire il progetto A Fermo Sarebbe un peccato Non proseguire Anche perché Quest'anno È un progetto Sorto in corso d'opera Dopo l'esonero Di Antonioli Adesso Con l'esperienza Di Cornacchini La società Ha anche l'opportunità Di costruirgli Una rosa su misura Lui quest'anno Ha adottato il 4-4-2 Perché si è adeguato I giocatori che aveva Però da alcuna Spesso faceva il 3-4-3 Il 3-5-1-1 Quindi una rosa Adeguata Alle sue Cognizioni tecniche Potrebbe produrre Anche risultati migliori Poi tra poco Con Sara Vedremo anche Quello che è successo Anche se non ci riguarda Da vicino Nelle gare di play-off Di Serie C Perché ormai Ci stiamo avvicinando Alle Final Four Però prima Con la collaborazione Della regia Andiamo a vedere Quello che è successo oggi Poco In realtà In Serie D Andiamo a vedere Il quadro dei risultati In questo campionato Partendo per un attimo Dai recuperi Che si sono giocati Mercoledì Vedete A Pineto C'è stato il successo Della Vastese per 2-1 L'Agnonese ha vinto A Giulianova 2-0 Il Porto Sant'Elpidi Ha battuto L'Atletico Terme Fiugi Per 2-1 Poi Rieti Aprilia 2-0 Il Campobasso Che ha messo in sigillo Sul campionato Vincendo 2-0 A Vasto Girardi Oggi si sono giocate Soltanto due partite Vedete i risultati Olimpio-Agnonese Batte Porto Sant'Elpidi 1-0 Poi vedremo il servizio Aprilia batte Real Giulianova 1-0 La classifica Vedete che gli asterischi Sono quasi completamente scomparsi Campobasso 67 San Nicolò Notaresco 59 Cinzia Albalonga 49 Matese 48 Pineto 46 Castelfidardo 45 Castelnuovo Vomano E Rieti 43 Re Canatese Montegiorgio 42 Vastese Vasto Girardi 39 Aprilia 38 Atletico Terme Fiuggi Tolentino 33 Giulianova 28 Agnonese 14 Porto Sant'Elpidio 10 Vi ricordo ancora che Agnonese e Porto Sant'Elpidio Sono matematicamente retrocesse Il Campobasso è praticamente Ad un passo Da ritorno Tra i professionisti Daniele La Serie D Si trascina stancamente Verso la fine Mancano 4 giornate L'interesse verso questo campionato È ai minimi termini Dico solo che è un grande successo Soltanto quello di portarlo al termine Voltare pagina E pensare alle prossime Sì è un campionato infinito Interminabile Dove con tutti gli asterischi Le crocette Non ci si capiva niente Fino a qualche settimana fa E ancora col Castelnuovo Che ha problemi di Covid Non si capisce se Il 20 giugno finalmente Arriveremo a termine Di questo campionato Ha perso di interesse Poi con le sole due Retrocessioni Stabilite dalla FIGC Con Agnonese Porto Sant'Elpidio Che erano ultimissime da tempo Campobasso sta facendo il vuoto Quindi queste ultime 4 giornate Diventano veramente Un magone Per chi Insomma deve assistere A queste partite Che perdono di interesse Purtroppo è stato un campionato Costellato Molto di più rispetto alla Serie C Anche perché stiamo parlando Di un livello inferiore Con organizzazioni diverse Da problematiche legate al Covid Con sospensioni continue Con squadre come Pinetoli, Canatese Eccetera Che a un certo punto Sono 7-8 partite in meno Un campionato Ecco che A parte le ultime due Che effettivamente Insomma Sono sempre state attardate Quindi i valori sono giusti In alto Forse avremmo potuto Vedere Magari una lotta Un po' più appassionante Con Pinetoli, Canatese Qualcun'altra Che potevano Dar filo da torcia A Campobasso Però è anche vero Che in fondo Il Campobasso Anche come organico Probabilmente è il migliore E merita Dopo la beffa Dalla scorsa stagione Dove il campionato È stato interrotto Sul più bello Per il Campobasso Di fare la Serie C Secondo me Non merita Adolfo Di spendere tante parole Questo campionato Facciamo un breve scursus Perché tu segui Un po' anche quello Che succede in altre regioni Rimaniamo un po' Nelle nostre regioni limitrofe Perché per esempio L'eccellenza in Umbria Non si è nemmeno Ricominciata In Emilia Romagna Che avevano tre gironi Se non sbaglio Qui Daniele segue tutto Quindi potrà essere più preciso Se ne è fatto uno solo E mi pare che ha in testa Una formazione del Parmense Che potrebbe quindi andare In Serie D In Molise Il campionato di eccellenza Molisano È molto particolare Mi pare che c'è in testa Una formazione Della provincia di Caserta In Abruzzo Invece Che tu segui Abbastanza bene E che aveva comunque E ha grosse squadre Mi pare che sono partite in sette Ma c'erano Chieti L'Aquila Lanciano Avezzano Il Chieti mi pare che è in testa L'Aquila Esatto Il campionato abruzzese L'interesse per quanto riguarda L'eccellenza Era dovuto Dal fatto anche che C'è una città importante Esatto Aquila Avezzano Lanciano Chieti Città Sant'Angelo Nato Guri Angolana Capistrello Delfino Flacco Quindi tutte le società Importanti Soprattutto queste quattro Che si sono giocati Il campionato Tutt'ora in corso Il livello è abbastanza alto Per quanto riguarda Per quanto riguarda Questo campionato Sicuramente è un campionato Molto interessante Il Chieti era leader No? Il Chieti si era leader Credo che Mercoledì Ci sia lo scontro diretto Perché è un po' Decida un po' All'Aquila 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 All'Andata Fecero 1-1 Ci sarà questo scontro diretto C'era anche di mezzo L'Avezzano Ma c'era anche l'outsider Come l'Arenato Curi Che magari Ha perso qualche colpo Nonostante avesse una rosa Molto importante Sai Questo è un campionato Se era dall'inizio Era un campionato Molto interessante Con queste squadre Il Lanciano purtroppo Ha risentito Delle vicissitudini Societarie Ha avuto dei grossi problemi Ci sono stati dei passaggi Con società Non si capisce bene Americane Vengono fuori Delle situazioni particolari Questa è la globalizzazione Comunque Va detto No Daniele Che trovare 12 società Nelle Marche Raffrontando Quello che è successo In altre regioni A noi vicine Ripeto Emilia Romagna Umbria Ma anche Abruzzo Non è andata Proprio male Anzi No Poi è andato bene Perché L'organizzazione Di queste società Si è rivelata All'altezza Le incognite I dubbi Erano tanti Perché poi Si è partiti Nel periodo peggiore Del covid A fine marzo Inizio aprile Ancora I numeri erano Molto elevati Le società Hanno dimostrato I giocatori stessi Hanno dimostrato Molta maturità Il tutto Il tutto è andato Finora Per il meglio Senza partite Rimbiate Quindi Onore a queste 12 società Che hanno fatto fronte A spese sicuramente Ingenti Importanti Al di là del budget E allo stesso tempo Hanno costruito anche Organici Forti Perché Squadre che Tutte le squadre Che hanno partecipato Hanno cercato di fare il meglio Facendo due o tre acquisti A testa E quindi Il livello è stato Elevato Nonostante le problematiche Importanti E punti interrogativi Con cui si è partiti Io non voglio togliere spazio A Giuliano Gubinelli Nella seconda parte Sara ci racconti un po' Almeno tre delle quattro partite Dei playoff di Serie C Come sono andati Poi possiamo intervenire Anche un po' I nostri ospiti Su queste partite Che seguiamo Ormai con sovrano di stacco A proposito Della forza Del girone B Il Padova Vince 3 a 0 Feral Pissalò 1 a 0 Con l'Alessandria Mentre il Suttirol Sta perdendo 2 a 0 Ad Avellino Il Binoleff e Catanzaro 0 a 0 Quindi sicuramente Le squadre del girone B Appunto Stanno dando un po' Al meglio di sé Perché Almeno due su tre In questo momento Sarebbero in vantaggio Rispetto alle altre E Probabilmente La voglia di ridisegnare I gironi Sarebbe anche giustificata Alla luce di questi risultati Daniele che dici Insomma Padova Che maramaldeggia Con il Renate Ma insomma Anche la Feralpi Che batte 2 a 0 All'Alessandria A seconda del girone A Altro segnale Di quello che dicevamo In precedenza Sì Padova era già Favorito Per vincere il campionato Poi dopo Si è fermato Sul più bello Ma adesso Può arrivare Fino in fondo La Feralpi Sarò Magari in campionato Ha balbettato Però sta trovando I suoi interpreti migliori Tra cui anche Il marchigiano Tulli E poi già Aveva eliminato L'Alessandria Anche alcuni anni fa Quindi ci sta riprovando Adesso decisivo Sarà il ritorno Suttirol Vede sempre La sua bestia Al momento Quanto meno Sta vedendo La sua bestia nera Braglia Perché già Ai tempi del Cosenza Aveva eliminato Suttirol Aveva nato Da Zanetti Beffandolo All'ultimo minuto Quindi ancora una volta Braglia In attesa Della partita di ritorno Si sta rivelando Fatale Per il Suttirol Andiamo a vedere Per onor di cronaca Come si riprenderà In Serie D Domenica prossima 6 giugno Potrebbe essere La domenica Della vittoria matematica Del campionato Per il Campobasso Anche perché Come vedete Ha un incontro Sulla carta Abbastanza agevole Contro il Porto Sant'Elpidio Le altre gare in programma Sono Olimpia Agnonese Atletico Terme Fiugi Vastese Cinzia Albalonga Aprilia Pineto Castelfidardo Giulianova Matese Recanatese Monte Giorgio Rieti Castelnuovo Mano Tolentino San Nicolò Notaresco Vasto Girardi Dico soltanto Come peraltro Ha accennato Già Daniele Che il Castelnuovo Mano deve recuperare Tre partite Mentre con una gara in meno Sono rimaste Pineto Recanatese Vasto Girardi Molti tuoi colleghi Anche nostri amici E nostri vicini Parlo di Mirko Cudini Ma anche Massimo Paci Di cui si parla Di un possibile Ingaggio in Serie B Addirittura Stanno andando Molto bene Per Mirko Cudini Vincere un campionato Comunque in una piazza difficile Come il Campobasso Perché ci hanno provato in tanti Non era proprio la cosa più semplice Del mondo Adolfo No Guarda Io ti dico L'ho seguito abbastanza Il campionato E devo dirti Che il Capobasso Aveva qualcosa in più Rispetto alle altre Ma al di là della rosa Che poteva essere Più o meno competitiva Però credo che lui Mirko Abbia messo qualcosa di suo La squadra aveva dei codici Ben precisi Di gioco Ha sempre dimostrato La loro superiorità Sia in casa Che fuori E devo dirti che Sinceramente Qualcosina Rispetto alle altre In più C'aveva Sotto L'espressione del gioco Della quadratura di squadra Al di là Di calciatori interessanti Tipo magari C'era un ragazzo vitale Un 2002 Molto interessante L'attaccante Poi Vincenzo Esposito Lo conosciamo tutti Però Lui è stato bravo Anche a inquadrarlo In un sistema di gioco importante Sai Vincere al Campobasso Come dicevi tu Non è facile Una piazza importante Come poteva essere San Benedetto Il Campobasso Ci hanno provato in tanti Poi secondo me Se vai a leggere L'organico All'inizio stagione Tra Campobasso E Notaresco Per esempio O Pineto Sicuramente Il merito Di Mirko È notevole Perché la sua Organizzazione Ha portato Di frutti Importanti Più Mirko Cudini O Massimo Paci O tutti e due Daniele Vedi Destinate ad una Brillante carriera Di allenatore professionista Io ci aggiungerei anche Lauro del Castelfidardo Sono tre allenatori Sui quali scommetto Paci Sembra arrivato Perché Pordenone È pronto per lui Un biennale Quindi La prossima stagione Probabilmente affronterà La Serie B Cudini Probabilmente Lo farà Mi auguro per lui Sarà riconfermato A Campobasso Quindi lo farà In Serie C E Sto vedendo bene Anche Lauro Che con il Castelfidardo Anche lì Non ricco Ricchissimo Di nomi eccellenti Ma lo scorso anno È arrivato davanti A Lanconitana Vincendo il campionato Al momento della sospensione Quest'anno Sta lottando per i playoff Ma è sempre stato distante Dalla zona retrocessione Ha dato Un'identità di gioco Importante Una difesa sempre solida E quadrata Quindi sono Tre allenatori marchigiani Che stiamo tutti Osservando da tempo Stanno crescendo Stagione dopo stagione E merito Il palcoscenico Dei professionisti Dove sono stati Anche da Grandi difensori Assolutamente Grazie a Daniele Tittarelli Grazie a voi Oggi in veste Di giornalista Del Corriere Adriatico Ma anche Direttore sportivo Della Biagio Nazaro Chiaravalle Grazie ad Adolfo Cicchella Al piacere Di rivedervi Nei nostri studi Ora una brevissima Interruzione pubblicitaria Poi parleremo Di questo Interessantissimo Campionato di eccellenza Anzi Dei due campionati Di eccellenza Apertissimi Sia nel gruppo A Che nel gruppo B A tra poco Cari amici Cari amiche Delle Marche Nel pallone Buonasera Ben trovati E benvenuti A questa seconda parte Del nostro programma Che accade Avviene E a Campionato di eccellenza Attivo Operativo Vivo Vivido E in qualche caso Anche vivace Siamo alla Ottava giornata Su dieci di campionato Quindi otto su dieci Semplifichiamo La frazione Siamo ai quattro quinti Del campionato In poche parole Cosa significa Che è quasi finito Mancano solamente Due giornate Due giornate Che si disputeranno Entrambe Durante la prossima settimana Perché Già la prossima settimana Di mercoledì Primo giugno Festa Della Repubblica Ovviamente Si giocherà E si scenderà In campo E poi domenica prossima Avremo L'epilogo finale Di questo particolare Torneo Di eccellenza Lo chiamiamo torneo Non più campionato Lo sapete Perché Abbiamo in campo In ballo Solamente 12 squadre Sulle 18 Inizialmente previste Ma questa è ormai Storia vecchia In sostanza Stiamo proprio Stiamo proprio Spremendo il Succo del limone Dell'arancio E tra poco Ce lo Berremo tutto Manca proprio Una settimana Vediamo allora Cosa è successo Tra ieri e oggi In questo Sorprendente Campionato Di eccellenza Sorprendente giornata Equilibrato Torneo Di eccellenza Se lavorassimo In un giornale Oggi potremmo titolare La caduta Degli dei Soprattutto Nel girone B Tra poco vi spiego Perché Per oggi Partiamo Dal girone A Il big match I riflettori Erano puntati Al del conero Di Ancona Tra la seconda In classifica Ovvero L'Anconitana E il Fossombrone Primo in classifica Ne è uscito Uno 0 a 0 Che in realtà Soddisfa solamente Gli uomini Di mister Fucili Perché Perché Arrivano in Rimangono in Testa alla classifica Rimangono in Testa alla classifica In Coabitazione Con l'Atletico Gallo Col Bordolo Ma soprattutto A due giornate Dalla fine In sostanza Tengono a distanza L'Anconitana Peraltro Per il Fossombrone C'è da dire Un rigore Fallito Da Paradisi E parato Da Marcantonini Una partita Che ha finita Poi 10 uomini Contro 10 uomini L'Anconitana Che spreca Un'occasione Per balzare In vetta La classifica Da solo Altra partita Era un altro derby Anche di vecchia memoria Era quello tra Vigor Senigale E Jesina La Jesina Espugna Il Bianchale Il Bianchale Di Senigale Per 2 a 1 Doppietta Di Barchiesi Gol della bandiera Per gli uomini Di Clementi A firma Di Dennis Pesaresi Nell'unico Anticipo Di questo torneo Di questa giornata Di questo torneo L'Atletico Gallo Col Bordolo Batte L'inglese 2 a 0 Il Montefano Coloretti Dei Bomber Bartolini E Muratori E così Con questa vittoria Aveva già posto La sua posizione Aveva già scavalcato Tutti in prima Posizione In classifica Con il pareggio Di oggi Del Fossombrone Vengono raggiunti Poi passiamo Al girone B Che è quello Che ha dato i risultati Un po' più Un po' più sorprendenti Un po' più stupefacenti Perché è un po' clamorosa Poi sentiremo Se è veramente Clamorosa La sconfitta Della capolista Atletico Ascoli Che cade 3 a 1 Contro il Val di Chienti Ponte Che vince 3 a 1 Grazie alle reti Di Nasic Palmieri E Monaco Rete della bandiera Per gli Ascolani A firma di Gianluca Adami Poi Altrettanto clamorosa La sconfitta Casalinga per giunta Della San Giustese Che cede All'Atletico Azzurra Colli Alla seconda vittoria Consecutiva 2 a 0 Per gli uomini Di Mister Amadio Grazie alle reti Di Vecchiarello E Cia Buschi Il Porto d'Ascoli Con una rete Di Cermela Batte 1 a 0 Il Grottamare E Scavalca La San Giustese Adesso è terza In classifica Parleremo diffusamente E in maniera Molto competente Di questa Odierna giornata Del campionato Di eccellenza Ma dell'intero Torneo Di eccellenza Con gli ospiti Di stasera Che sono gli ospiti I rappresentanti Dell'Atletico Ascoli Oggi capitanato Dal direttore sportivo Mario Marzetti E dall'attaccante Mauro Iori Insieme a loro Ovviamente La nostra È rimasta con noi La nostra Mitica Sara Santacchi Intanto benvenuto a voi E grazie Sara Di essere con noi Bentrovati Buonasera a tutti Buonasera Allora Mauro Mario scusa Oggi Partita contro il Val di Chienti Ponte Per il Val di Chienti Ponte Era una partita Da dentro fuori Con la vittoria di 3 a 1 Contro di voi È rimasta dentro Il Val di Chienti Ponte Voi però siete sempre primi In classifica Ma soprattutto Che partita è stata? È stata una partita Difficile Come D'altronde sapevamo Quindi Conosciamo benissimo Il Val di Chienti Sappiamo Le difficoltà che Mettono Soprattutto sul loro campo E quindi Era in previsione Una partita Difficile Non pensavamo Di non portare A casa punti In quanto Sicuramente La squadra Sta lavorando bene Lo staff Sta lavorando Altrettanto bene Per cui Dispiace Non aver portato punti Perché poi Potevamo comunque Lasciare loro a distanza E Dare una Una grossa botta A questo campionato Però Purtroppo Come dicevi prima È un torneo Non è un campionato Vero e proprio Quindi ogni partita È una Finale E questo Lo sappiamo Dall'inizio Per cui Dobbiamo stare Super attenti In vista della partita Di mercoledì E soprattutto di domenica Perché poi In cinque giorni Decideremo tutto Per cui Forse il clamorosa Lo toglierei Perché non è stata Clamorosa Nel senso Il Val di Chiendi È una squadra Che partiva favorita Insieme a Forse San Giusto E Portodascoli A noi Quindi Non è una sconfitta Clamorosa È una sconfitta Venuta male Perché comunque Abbiamo nei 90 minuti Fatto una buona gara Dispiace Per qualche errore Di troppo Che ci ha fatto andare sotto Di tre gol All'inizio Al primo tempo Quindi Poi dopo Diventa difficile Recuperare Ci avevamo provato Abbiamo fatto il 3 a 1 Ci hanno annullato Un gol Forse regolare Non ci hanno Credo dato un rigore Su Mauro Che poteva esserci Quindi Non voglio recriminare Perché non Non è mia abitudine Però Dispiace per come è venuta Questo sicuramente Togliamo il clamorosa Sconfitta Mettiamo in provvida Sconfitta Il clamorosa Sconfitta Era riferito a due aggettivi Il primo Soprattutto perché Il clamorosa Per il fatto Che l'Atletico Ascoli Non aveva mai subito Tre gol In una partita In questo torneo Prima di tutto Seconda cosa E ritorno al titolo Di prima La caduta degli dei Questa è la prima sconfitta Dell'Atletico Ascoli In questo torneo Come anche La prima sconfitta Della San Giustese Quindi Oggi tutte le squadre Non c'è più Una squadra imbattuta In questo torneo Di eccellenza Tutte hanno perso Almeno una partita Mauro Intanto Mauro Iori La prima cosa Che va sottolineata Un giovane Giovane Di belle speranze Ma soprattutto In fase di maturità Perché mi sembra Che hai 26 anni Sì esatto Nativo di Camerino Come la nostra Sara Santacchi Quindi io non so Se ciò Deponga o meno A tuo favore Non lo so Lo scopriremo Solo vivendo Tu sei d'accordo Assolutamente a suo favore Beh va bene Lo scopriremo Sei d'accordo Con l'analisi Che ha fatto Il direttore sportivo Il Val di Chianti Ponte Con questa vittoria Contro di voi Rientra pienamente In scia Per la conquista Delle semifinali Sì sì Sono d'accordissimo È stata Un'analisi perfetta Purtroppo Ci hanno condannato Gli episodi Perché Abbiamo preso Due tiri a porta Al primo tempo E subito Tre gol Uno Il primo è nato Da un nostro errore Secondo È stata una bella giocata Del loro attaccante E poi Il terzo Un calcio piazzato Quindi sono stati Tre episodi Che purtroppo Ci hanno condannato Però Resta La buona prova Perché alla fine Abbiamo reagito bene Abbiamo trovato Il gol Del 3 a 1 E ci hanno dato Un gol Che ho visto Le immagini Era regolare Di Giovannini Io Andavo in porta E mi hanno Mi ha messo giù Mi ha dato simulazione Mi ha monito Quindi Alla fine Abbiamo avuto anche noi Le nostre occasioni Abbiamo reagito L'importante è quello Adesso abbiamo Una settimana cruciale Due partite Faremo di tutto Per arrivare Appunto A questi playoff Entrame Avete detto Che l'Atletico Ascoli Nonostante la sconfitta Di oggi Ha fatto un'ottima Anzi una buona prestazione Forse anche ottima Non so Comunque Almeno una buona prestazione Quindi la sconfitta di oggi Almeno c'è la consolazione Che non è frutto Di una vostra Diciamo Incompetenza Ma probabilmente Della bravura Del Valdichienti Ponte Anche perché poi Gli episodi Comunque sono sempre decisivi Avete visto ieri La finale di Champions League C'è stato un episodio A favore Tutti Dichiaravano Che avrebbe vinto Il Manchester City E poi alla fine La spuntata Il Chelsea Anche Soprattutto Grazie A un episodio Mario volevo commentare con te I risultati Della giornata odierna Cosa ci consegna La giornata odierna A livello di risultati Sia girone A Sia girone B Partiamo dal girone B Va bene Che è quello che conosci meglio Certo No che abbiamo avuto Veramente poco tempo Finita la partita Quindi abbiamo visto Pochino dell'altro girone Del nostro Vi dico che comunque Dalla prima alla quarta Siamo tutti in ballo Per cui La prossima giornata Vede noi contro il Porto Tascoli E Valdichienti contro San Giustese Per cui Credo che Sia una giornata Abbastanza decisiva Le vedo Cioè Mi vedo Non vi dico Favorite Perché non posso dirlo Però nel senso Le vedo tutte e quattro Possibili partecipanti Ai playoff Spero che l'atletico Arrivi prima Perché comunque Visto il percorso che ha fatto Se lo merita Però non è facile Perché comunque Non siamo dentro definitivamente E dobbiamo giocarci Queste due partite alla grande Questo è un po' il girone nostro Sicuramente So che la partita Valdichienti e San Giusto È una partita sentita Quindi Che sarà il derby Di domenica prossima Sarà il derby Per cui Credo che Entrambi se la giocheranno Poi la San Giustese Comunque viene da questa Brutta sconfitta Che non ci aspettavamo Per cui Viene tra l'altro Mi sembra da una striscia Di quattro pareggi Quindi è un pezzo Che manca la vittoria A Monte San Giusto Certo Quindi Tutto in ballo Non sarà facile Per nessuna delle quattro Quindi Io ho fiducia piena Nel lavoro che stiamo facendo Nel gruppo Nel mister Del suo staff Quindi Preferisco pensare a noi E quindi Rimetterci sotto Fin da domani E preparare queste Due partite Difficilissime La prima di mercoledì Poi penseremo all'altra L'altro girone Che ho seguito anche In questo periodo Lo vedo Come dicevamo prima Con Sara Forse anche la Chiesina Ancora in ballo Sì ancora in ballo Perché ha 11 punti La prima Anzi le prime Forse Il livello anche lì È alto Molto alto Per cui Il Fossombrono È una squadra Che mi ha sorpreso Il Gallo La conosciamo L'Angonitana Un po' per il nome Un po' per la rosa Che c'ha Penso che Farà di tutto Per entrare Dentro a queste Playoff E quindi giocarsi La D Per cui Sicuramente saranno Dei playoff Di altissimo livello Perché poi Le squadre Con questo torneo Si sono rinforzate Tutte quante Sul mercato E noi abbiamo Una rosa Di 25 giocatori Ma credo anche Le altre Per cui Di tutti I validi giocatori Per cui Usciranno fuori Sicuramente Di playoff E sarà Tiratissima All'ultimo Secondo Per cui Il fatto che I due gironi Siano così equilibrati Che ancora Abbiamo Sostanzialmente 8 squadre 4 nel girone A 4 nel girone B Ancora potenzialmente In corsa Per raggiungere I due I quattro posti Ma i due Per ogni girone Per le semifinali Quindi è sinonimo Di qualità Dell'eccellenza Non di mediocrità No è qualità Credo che ci sia Veramente tanta qualità Ho visto Ho seguito tantissimo Il girone nostro Ma per Penso sia normale Ma vedendo anche Le partite Con il fatto che Comunque vengano trasmesse C'è la possibilità Di rivederle Anche nel girone A C'è C'è tanta tanta qualità C'è qualità negli under E quindi Qualità negli staff Tecnici È un campionato Sorprendente È un torneo Che ci sta sorprendendo Per il livello Quindi Anche il fatto Che ci siano due under Soltanto A differenza della Di credo che Questo abbia portato A un innalzamento Del livello Giustamente Mario Marzetti Ha detto Ci sta sorprendendo Il livello di questo Campionato Perché io non l'ho detto Ma lo dico adesso L'Atletico Ascoli È una neopromossa Del campionato Di eccellenza Scorsano giocava In promozione Peraltro Poi le cose Mi vengono Cammin facendo Devo ringraziare Il vostro Adetto stampo Luca Gabrielli Con cui ho interagito In settimane Che comunque Fa un'opera Molto Ottima Veramente ottima A livello di social E di comunicazione Vedo tante interviste Quindi siete tra le società Migliori dal punto Di vista comunicativo Io lo sottolineo sempre Perché poi Le prime informazioni Le prime non informazioni Le prime comunicazioni Devono partire sempre Dalle fonti Che in questo caso Sono le squadre stesse Dopodiché Dalle comunicazioni Si passerà poi Alle informazioni Mauro velocemente Poi ti lascio Ti lascio Nelle grinfie Della tua concittadina Sara Santacchi Voglio sapere Si rigioca tra tre giorni Sono tanti Sono pochi Per recuperare la forma Ma credo che Ce la farete insomma Si 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 Perché Ma questa è una forma Atletica o mentale Perché mancano due giornate Entrambe Entrambe perché Il periodo è Un periodo difficile Perché fa molto caldo E quindi Però Ti ripeto Cioè abbiamo Fisicamente siamo preparati Abbiamo un ottimo Staff tecnico Quindi Credo che arriveremo In forma per mercoledì E in più Siamo anche tanti Quindi Le rotazioni Sicuramente verranno fatte Le rotazioni Anche perché Siamo sempre stati rotati Non c'è proprio Un 11 fisso E quindi Credo che arriveremo E spero Che arriveremo al top Ecco Sara Direttore È vero che si tratta Di un torneo Ma chiaramente All'inizio Prima che tutto Ricominciasse Si facevano anche Dei pronostici Lei si aspettava Che a due giornate Dalla fine In pratica Non ci fosse Neanche un risultato Già stabilito Come ti dicevo Prima di iniziare In parte Si Conoscendo le rose Delle squadre Quindi Immaginavo Questa Diciamo Incertezza Fino alla fine Qualche sorpresa C'è stata Su qualche risultato Tipo Colli Magari a San Giusto 3 a 0 Una sorpresa Mi fa piacere Per gli amici di Colli Ma È una partita Dove magari Ci si aspettava Un risultato diverso Ma come può essere Magari il pareggio nostro In casa Con il Grotta a mare O come Magari può essere La sconfitta Del Val di Chienti A Colli Per cui Parlando del nostro girone Ma la sorpresa Se ripenso A Fossombrone Ancona Dell'andata Quindi La sconfitta Dell'Ancona Credo che siano Dei risultati Magari che ti Ti sorprendono E rendono Questo campionato Incerto Fino a Penultima Ultima giornata Credo che già Mercoledì Qualche esito Venga fuori Mauro si diceva Non ci sono retrocessioni Per cui ci può stare Che insomma Sul finale Le squadre Che sanno Che non arriveranno Ai playoff Un po' Cedano Dal campo Tu che Giochi le partite Quindi la vivi Da dentro il rettangolo Vedi questo Oppure no I risultati Non lo direbbero No sinceramente No anche perché Ecco Questo periodo Di inattività Secondo me Ha dato molta voglia Di giocare E quindi Queste dieci partite Vengono affrontate Veramente al massimo E tante volte Il livello È alto Anche per questo Perché comunque Essendoci così poche partite Tutti hanno voglia Di mostrarsi Di farsi vedere Quindi È questo È questo che sicuramente Alza il livello E sono sicuro Che anche Magari Una squadra Che non ha niente Da giocarsi L'ultima partita Sono sicuro Che andrà in campo Non regalerà nulla Esatto Mario senti Velocemente Da qui Manca una settimana Alla fine del torneo Di eccellenza Due partite Una mercoledì Una domenica prossima C'è poco tempo Per recuperare Il tempo Fugge Come dicevano i latini Corre Va veloce Cosa sarà determinante Per raggiungere L'obiettivo Delle semifinali Secondo te Determinante Sicuramente La forma fisica Perché poi È un fattore Che non Non puoi sapere Finché non vai in campo E sicuramente Sarà determinante La compattezza Della squadra E l'aspetto mentale Che poi È Credo Un altro Un altro Fattore Importantissimo Per poi raggiungere L'obiettivo Quindi Ci lavoriamo tanto Ci lavoriamo come staff Ma ci lavoriamo anche Come società Quindi Cerchiamo di mettere Tutti I tasselli Al punto giusto E credo Che lo faranno Anche le altre squadre Per cui Si giocherà molto Sia sull'aspetto fisico Ma soprattutto Anche l'aspetto mentale Mauro Questo è il parere Di chi sta dietro la scrivania Di chi scende in campo Cioè il tuo Qual è? Condivido le parole di Mario Sicuramente questo qui L'entusiasmo E la voglia De raggiungere il risultato Tutti i giocatori Hanno voglia Ripeto Di farsi vedere Quindi L'entusiasmo Sarà fondamentale L'entusiasmo Ok Io ci avrei messo Fosse un allenatore Avrei aggiunto La fede La fiducia Il credere Di raggiungere Veramente Fermamente Quel determinato obiettivo Che uno si prefigge E il tempo è poco Ci sono due partite In quelle partite Bisogna dare Non il 100% Il 110 Il 120 Il 150% Tutto quello che sia Come fosse la finale Di Champions League Quella di ieri sera Tra Manchester City E Chelsea Poi vinca il migliore Che poi non è sempre il migliore Comunque detto questo Abbiamo parlato Di Atletico Ascoli Vediamo L'Atletico Ascoli Oggi Contro il Val di Chianti Ponte La partita è finita 3 a 1 Ci vediamo il serizio Poi siamo di nuovo qua Con gli amici Di Atletico Ascoli E a parlare ancora Del campionato di eccellenza Adesso però Val di Chianti Ponte Atletico Ascoli Una pizza che non si scorda Il piacere di ballare Il luogo giusto Per ritrovarsi con gli amici È lo chalet I Due Re Ristorante e pizzeria A Civitanova Marche Un compleanno La laurea O semplicemente La voglia di stare insieme In un ambiente Che fa spettacolo I Due Re Ristorante e pizzeria Lungomare Piermanni Civitanova Marche Sfida alla capolista Per il Val di Chianti Ponte Di Mister Gian Domenico Al Comunale di Villa San Filippo Arriva l'Atletico Ascoli Battistrada del Girone Momento delicato Per i padroni di casa Due sconfitte consecutive Sul groppone E un organico ridotto all'osso Da infortuni e squalifiche Vietati ulteriori passi falsi Per non compromettere definitivamente La corsa ai playoff Atletico Ascoli con il vento in poppa Quattro vittorie nelle ultime cinque gare E miglior attacco del Girone Gian Domenico schiera la difesa a cinque In fase di non possesso Con Nasic e Palmieri in avanti Aloisi lascia in panchina Giovannini e Iori Mattatore con una doppietta Nelle match di andata E si affida al tandem offensivo Composto da Filiaggi e Adami Ex di giornata Dopo tre minuti Si sblocca la situazione Dopo appena tre minuti Da un rilancio All'apparenza innocuo Di Montserrat Nasic approfitta Di uno svarione collettivo Di tutta la difesa Dall'Atletico Ascoli E deposita il pallone Nella rete sguarnita E' l'uno a zero Per il Valdichienti Ponte Al tredicesimo L'Atletico Ascoli Potrebbe pareggiare Ma Filiaggi Spreca tutto Da buona posizione Valdichienti Ponte Molto chiuso In difesa Ma capace di ripartire In maniera pericolosa Al ventisettesimo Palmieri Evita con un gioco Di prestigio Nicolosi Ma schiaccia troppo La conclusione Con il sinistro Sei minuti dopo però Palmieri si riscatta Riceve un pallone Sporco da Nasic E incrocia Con grande prontezza Alla destra Di Albertini Questa volta incolpevole Due a zero Valdichienti Ponte Non demorde però L'Atletico Ascoli Al trentottesimo Tavoni Si salva Su Raffaello Sul calcio d'angolo Susseguente Mischia Furibonda In area Del Valdichienti Ponte Ma i due tentativi D'Atletico Ascoli Si infrangono Sul muro Difensivo Locale Nel primo Dei tre minuti Di recupero Arriva addirittura Il 3 a zero Della squadra Tattico portandosi Portandosi a un 4-2-4 Molto spregiudicato Conclusione Al ventesimo Di Mariani Estremamente pericolosa Poi al ventunesimo Arriva il gol Di Adami Su sospetto Fuorigioco Mette dentro Adami a tu per tu Con il portiere Tavoni In uscita Dopo il gol Dell'1 a 3 Viene anche espulso Per proteste Gian Domenico E dunque La partita rischia Di cambiare Per il Valdichienti Ponte Soprattutto dal punto Di vista emotivo Al ventisettesimo Nociaro Alla palla Del 2 a 3 Ma il tiro Viene ancora una volta Respinto E poi al trentanunesimo Viene annullato Un gol Alla formazione Di Aloisi Per fuorigioco Anche questa volta Da rivedere Nei sette minuti Di recupero Un'occasione Per il Valdichienti Ponte Al cinquantunesimo Con Ciorno Pischiuc Entrato da pochi minuti Lunga galoppata Dell'ex maceratese Aurora Treia Ma conclusione Clamorosamente Sul fondo Finisce 3 a 1 Per il Valdichienti Ponte Che legittima La vittoria Con un ottimo Primo tempo Fatto di solidità Difensiva E di estrema Concretezza In fase Offensiva Teti Quascoli Sicuramente tradito Dalle disattenzioni Difensive Ma partita Complessivamente buona Dei ragazzi di Aloisi Che conoscono Però la prima Sconfitta stagionale Sentiamo le voci Dei due tecnici Nel dopogara Mister Gian Domenico In un periodo Sicuramente Difficile E delicato Sul piano dei risultati Anche degli infortuni Avete tirato fuori Una grande prestazione Sì Devo dire che I ragazzi oggi Sono stati straordinari A nostri attidenti Eravamo veramente Contati Ma Anche i ragazzini Ci hanno dato una grossa mano Quindi Devo dire Bravi a tutti Per l'atteggiamento Per l'umiltà Per la voglia Veramente Di portare a casa Il risultato Abbiamo visto Abbiamo visto Una squadra Molto concreta Solida Difensivamente Che ha concesso Poco A una squadra Con il miglior attacco Del girone Poi siete state bravi A capitalizzare Quasi tutte le occasioni Sì Dovamo fare questo Sapevamo che Dovamo fare questo qui Perché Con le mille Difficoltà Che abbiamo In questo momento Con gli infortuni Non ci potevamo permettere Di fare la partita Soprattutto Contro una squadra Così forte Ho detto ai ragazzi Che Dovamo Dovamo magari Snaturarci un po' E' una squadra umile Tutti dietro In linea della palla E poi Quando ripartivamo Dovamo far male Così è stato È andata bene Dai godiamoci Sta vittoria E prepariamo Quella di mercoledì Tatticamente Ha funzionato bene La difesa 5 In fase di Non possesso Più due Mediani Come Borgese E Visciano Nasic ha fatto Un grandissimo lavoro Nonostante la punta Non sia proprio il suo ruolo Sì Si è sacrificato Per la squadra Ha lottato E' riuscito a trovare Il gol Sono contento E abbiamo bisogno Di tutti Tutti Stanno dando Il loro contributo E per questo Sono veramente contento In breve Adesso Poco tempo Per gioire Adesso Mercoledì Derby Che sembra Quasi una finale Eh sì Credo proprio di sì Quindi Diventa importante Per noi Forse determinante Questa partita E Niente La prepariamo Con grande umiltà Con grande voglia E sappiamo che Nel coligio Giochiamo la qualificazione Mister Aloisi Prima sconfitta Della stagione Siete stati in partita Fino alla fine Il rammarico Probabilmente Per le troppe disattenzioni Nei primi 45 minuti Un po' per il rendimento Generale della squadra Ma sì 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 Assolutamente Abbiamo fatto una gran partita Eh Abbiamo gestito bene la valla Abbiamo giocato a calcio E Quegli episodi Eh Dei singoli Ci hanno un pochino Compromesso la partita Soprattutto nella prima frazione di gioco Ma Posso rimproverare nulla Ragazzi Noi siamo venuti qui a giocare a calcio L'abbiamo fatto Abbiamo creato tante occasioni Eh Lasciamo perdere quello che ci è stato Tolto Ma io credo che In una gara Voglio dire Ci può anche stare Però Sono veramente Molto soddisfatto Non sono affatto preoccupato Perché quando la squadra Fa una prestazione del genere Certo sono rammaricato per il risultato Perché credo che sia un passivo Per quello che si è visto Nei 95 minuti Credo che sia un passivo eccessivo Però Voglio dire Sono molto molto fiducioso Questo risultato Secondo lei Dove Si spiega Dove Secondo lei I suoi potevano fare meglio E dove il Val di Chienti Vi ha Sovrastato No Io penso che ci sia stata Soltanto una squadra in campo Noi abbiamo giocato a calcio E quindi Non siamo Stati sovrastati Da nulla Assolutamente Abbiamo avuto circa L'ottanta per cento Di possesso palla Quindi Voglio dire Qui questo è palese È sotto gli occhi di tutti L'unica cosa Siamo stati Ecco Penalizzati Da quelle disattenzioni Clamorose Che in otto partite Io non avevo mai visto Quindi Ci può stare La giornata storta E Adesso Riprendiamo In mano la situazione Ci rilassiamo Ci riposiamo Perché tra 48 ore Avremo Una partita molto Molto importante Quindi dal suo punto di vista È una sconfitta Che può essere salutare Perché comunque è stata Accompagnata da una bella prestazione E può dare nuove motivazioni Per le prossime gare Sì sì assolutamente I ragazzi hanno fatto Una prestazione in linea Con quelle Con tutte quelle A parte Il secondo tempo In casa con il Grotta Mare Alla seconda Di campionato Quindi No no Ma non sono Non sono preoccupato Assolutamente Forse Ecco È una sconfitta Che magari Arrivata in questo momento Ci può aiutare Per capire bene Un attimino Che ecco Insomma Il discorso Qualificazione È ancora tutto Da conquistare Ma Per il resto Una prestazione Veramente Molto bella Eccoci di nuovo in onda Cari amici Cari amiche Delle Marche Nel pallone Siamo di nuovo con voi Siamo di nuovo con gli ospiti Dell'Atletico Ascoli Oggi rappresentati Capitanati da MM Mario Marzetti Direttore sportivo Della società Picena E da MI Mauro Iori Attaccante Del Sodalizio Piceno Abbiamo visto Adesso l'immagine Della vittoria Del Val di Chianti Ponte Sull'Atletico Piceno Questa era l'ottava giornata Su dieci giornate Di questo Mini torneo di eccellenza Diviso in due gironi Girone A Girone B Sei squadre da una parte Sei squadre dall'altra Ho detto Otto partite Su dieci Sono state già giocate Ne mancano due Alla fine di questo torneo Poi avremo Le semifinali E la finale Le ultime due partite Che mancano Non l'abbiamo già detto Ripetutamente Nella prima parte Ma lo ridiciamo Perché Ripetita Juvent Si giocheranno La settimana prossima Una di mercoledì E una di domenica In questa ottava giornata Sono tredici Le reti messe A segno Sono Cinque nel girone A E otto nel girone B Un unico 0-0 Quello Traconitana Forsemponnese Le altre Cinque partite Ci sono state Cinque vittorie Chiaramente Anche perché lo 0-0 Era l'unico pareggio Peraltro Le altre cinque partite Sono state Cinque vittorie Di cui tre in casa E due in trasferta Quelle in trasferta A firma di Jesina E Atletico Azzurra Colli Quindi video Lettura della classifica Dei Bomber Aggiornata All'ottava giornata Di questo torneo Allora A quota 4 reti Abbiamo Danny Carzetti Che è stato oggi Raggiunto Da Enrico Bartolini E abbiamo anche Gianluca Dammi Dell'Atletico Piceno Atletico Ascoli Pardon E Federico Palmieri Del Valdichianti Ponte Che abbiamo visto Signore Quindi questi quattro giocatori Hanno quattro reti All'attivo Tre reti Ce l'hanno Salvatore Mastonuzio Del Montefano Massimo Conti Della Forza Empornese Dennis Pesaresi Della Vigor Senigallia Manuel Muratori Dell'Atletico Gallo Mauro Iori Dell'Atletico Ascoli Edoardo Mariani Dell'Atletico Ascoli E Jonathan Ciabuschi Dell'Atletico Ascoli Quindi Atletico Ascoli Avete visto Quanti giocatori ha Rappresentati Nella classifica Dei Cannonieri Significa che è una squadra Che gioca molto offensiva Giusto? Sì L'unica che ciabuschi È Atletico Azzurra Colli Sì Atletico Azzurra Colli Ho detto Atletico Ascoli Atletico Ascoli E ve lo volevo regalare Però è di Ascoli Ciabuschi Lo conosciamo benissimo Esatto Ne abbiamo tanti Ma giochiamo Giochiamo un buon calcio E Creiamo tanto Avremmo potuto segnare Anche di più In altre In altre circostanze Quindi Questo Questo fa piacere Ma significa che comunque Il lavoro Che viene svolto in settimana Poi Dà i suoi frutti Per cui Siamo contenti dei ragazzi Lo ribadisco Ma siamo contenti un po' Di tutto quello Che si sta creando Perché questa società Sta crescendo giorno per giorno Sotto tutti gli aspetti E quindi Ci siamo dati degli obiettivi E cercheremo di raggiungerli Se non subito Ce lo auguriamo Ma se non sarà Ci proveremo sicuramente Perché è una società Che merita I ragazzi lo sanno Perché Il lavoro Anche se è eccellenza Ce ne sta Le spalle Ce ne sta veramente Tanto Tanto Da parte di tutti A partire dai soci A finire Per lo staff I giocatori Quindi Diciamo che Poi quando ci sono i risultati Fa piacere Ma i risultati Sono frutto Di questo lavoro Quindi Quali sono gli obiettivi Che avete intenzione Di raggiungere A breve A immediata A breve O lunga scadenza C'è anche il derby Con l'Ascoli No Ad oggi la società No qualcuno Perché l'ha detto No ma si Se ne dicono tante Però non è Non è quello Perché la società Comunque Oltre a voler raggiungere Magari una categoria Che può essere la serie D Se ci riusciremo Ci riproveremo Sicuramente Ha dietro Anche un settore giovanile Che sta crescendo Bravo Ne volevo parlare Avete tutti i settori completi Tra l'altro Dalla Juniors Fino ai più piccolini Se siamo visti Credo che contiamo Circa 300 ragazzi Per cui L'obiettivo è anche Quello di fare Non dico Solo sociale Perché comunque poi Speriamo che qualcuno O anche tanti Di questi ragazzini Arrivino in prima squadra Qualcuno Ci sta già arrivando Quindi non vogliamo Sostituirci all'Ascoli Sicuramente Ma L'idea della società È quella di creare Una struttura importante Che sia anche Di collaborazione Con Tutte le altre società Del territorio Sicuramente ad oggi Ci stiamo strutturando In modo leggermente Più grande Ma non è Sicuramente Arrivare all'Ascoli O fare guerra Alle altre Per cui È una società Che a questo ci tiene Io ho sposato Questa causa Con molto piacere E cerchiamo di lavorare In questo senso In questa direzione Sicuramente La Serie D Può essere ad oggi Un obiettivo Che ci dà valore Anche al lavoro Che si sta facendo sotto La Serie D L'hai detto È un obiettivo Nascondersi sicuramente Non ha senso Perché poi gli investimenti Sono agli occhi di tutti Oggi sentivo qualcuno Da fuori Che diceva Non si vince Con i soldi Diceva una cosa giusta Ma l'Atletico Non è che sperpera soldi L'Atletico gestisce Le disponibilità Dalla prima squadra Al settore giovanile In modo giusto Pensa di farlo in modo giusto Sicuramente Arrivare in Dici Permetterebbe Di magari Dare valore A quello che si sta facendo sotto Perché io credo Che la categoria Della prima squadra Aumenta sicuramente Il valore Di tutto quello Che si fa sotto Nelle altre categorie Tra le tante cose Che si dicono Dell'Atletico Piceno Tra cui mi piace citare L'amico Aldo Nicolini Vi vede come i favoriti I vincenti Di questo torneo Di eccellenza Voi vi sentite i favoriti O lo siete solo sulla carta O vi sentite una sorpresa Un underdog Da neopromossi Mi viene da dire Che siamo una sorpresa Probabilmente Per tanti Perché poi Tutti ci diranno Che è un torneo È diverso Non è sicuramente facile Per me Penso che sia più difficile Affrontarlo con questo format Per cui Mi fa piacere Che qualcuno ci veda Come favoriti Io dico che Di favoriti Ce ne sono tante Perché poi Torniamo al discorso Di prima Della qualità Delle altre rose Per cui Ci fa piacere Non è facile Ci proveremo Poi Se non dovesse essere Sicuramente La società Ha la forza E la voglia Di riprovarci Quindi Io Ad oggi siamo dentro Penso che Mauro Concorda con me Faremo di tutto Per regalarci questo sogno Questo è sicuro Mauro Iori Mascherina nera Davanti alla bocca Tatuaggio Imponente E anche un po' inquietante Per fortuna Sta rivolto Dalla parte di Sara Quindi a me Non tocca Se non districcio Ma soprattutto Hai sopra Ovviamente Ovviamente hai Sopra La tua gamba destra La maglietta Della Tettico Ascoli Che è quella Con cui avete giocato oggi La vuoi mostrare Perché a me piace sempre Per le squadre neopromosse A parte che mi piacciono Proprio le magliette In generale Ma Mi piace anche Farla Farla vedere Insomma Io me la ricordavo In realtà L'ho già detto prima A telecamere Spendere Ricordavo Una nera Azzurra Bianca Che era Praticamente Quasi come Quella del gremio In Brasile Però Adesso avete Scelto il nero In sostanza Una squadra Che segna tantissimo Tra l'altro Gianluca Dami Un compagno Di esperienza Abbiamo visto anche Mariani Che è un giocatore Che già stava All'Atletico Ascoli Già lo scorso anno Mi piace però Sottenere Daniele Filiaggi Perché Daniele Filiaggi È un giocatore Intanto esperto Della categoria Purtroppo Molto sottovalutato Secondo me Non ha fatto La carriera Che avrebbe dovuto fare Ancora però Mantiene Dei colpi di classe Illuminanti Per questa categoria E Anche un cuore grande Perché in una partita Mi sembra Due o tre domeniche fa Aveva dedicato Un gol A un suo amico Scomparso Quindi siete anche Una bella squadra Avete fatto Un campionato A parte La sconfitta Di oggi Molto anche Regolare Pareggi Sconfite Insomma Non ci sono stati Dei picchi in basso Solo quella di oggi Sì Sì davanti Siamo Siamo tanti Siamo sei credo Tra tutti Secondo me Non per sembrare Presuntuoso altro Ma Tutti e sei Credo che giocheremo Titolari Credo In quasi tutte le Squadre Del girone Più o meno Abbiamo fatto tutti Tre e quattro Partite a testa Quindi è anche Bello Crearsi questa Cioè nonostante C'è tanta competizione Comunque siamo tutti In buon rapporto Quindi è bello È bello E speriamo appunto Di regalare A questa società Che lo merita Veramente Il salto in D Ce la metteremo Tutta Però Il pallone è rotondo Quindi Mai dire mai Sara Direttore Faccio questo gioco Con tutti gli ospiti Di puntata in puntata Quindi naturalmente Tocca anche a voi Dovendo scegliere L'avversario Eventualmente Nei playoff Per voi Quale sarebbe? Con chi vi piacerebbe Insomma Incontrarvi? Ad oggi A me piacerebbe L'Ancona In semifinale In semifinale Ma da prima classificata Spero Quindi Per fare L'Ancona ad Ascoli Per fare il derby ad Ascoli Mettiamola così Mi piacerebbe E Mauro? Per me È importante esserci Poi l'avversario È indifferente Anche a te L'Ancona Perché lavori in Ancona Giusto che risponde Sì No Ti senti un po' più inca Giochi No vabbè Se la vedi come Tra virgolette Sogno Mi piacerebbe Battere l'Ancona Appunto in finale Però In finale Batterla anche in semifinale Non sarà male Saranno contenti i tifosi E i telespettatori di Ancona Sara ancora? Invece per quanto riguarda Uno dei risultati Dei primi risultati È sicuramente arrivato Cioè la Vigor Senigallia È praticamente fuori dai giochi Te lo aspettavi direttore? Questa è una sorpresa Che poi mi ricordo Di aver fatto un'intervista Prima che iniziasse Questo torneo E La vedevo come una Una delle favorite Perché secondo me Era Una squadra Forte È una squadra forte Perché se analizziamo la rosa Io la ricordo Bene Perché ci abbiamo perso La finale dei Playoff Due anni fa Hanno cambiato Ma c'è una buona base Anche Di quella partita Quindi È una società forte Che viene da Da anni Belli Per cui Secondo me Quella è la sorpresa Negativa Che possiamo trovare Almeno nel girone A Perché Poi il mister Se non ricordo Il mister loro Aveva Aldo Clementi Aveva Aldo Clementi Aveva sollevato all'inizio Dice tutti ci mettono pressione Ma il campionato Sarà difficile Forse l'aveva pronosticato Forse lui L'aveva già Però Se analizziamo i singoli Comunque credo Che sia Una rosa forte Per cui È una sorpresa In negativo Grazie Scusa direttore Volevo sapere Hai detto Che il sogno L'obiettivo Insomma Sarebbe quello Di incontrare Ad Ascoli L'Anconitana In semifinale Intanto Siete tornati A giocare Al Picchio Village Perché Eravate Diciamo Sì Lì siamo stati Espatriati Fuori regione Sì A Sant'Egidio Per via Delle Diciamo Delle restrizioni Covid In quanto Diciamo La struttura Era utilizzata Dall'Ascoli Calcio La squadra Quindi la prima squadra Per cui Per rispetto Dei protocolli Non ci era concesso Né allenarci Né giocare Lì in quella struttura Però adesso Siete tornati Al Picchio Village E poi da Mercoledì C'è anche La possibilità Di avere il pubblico Avete già aperto La vendita Dei biglietti Sì Credo che sia Una bella novità Tornare A giocare Con Con gli spettatori Lo speravano tutti Lo speravamo anche noi Credo anche I giocatori Perché poi Avere il pubblico È tutto Dà tutta un'altra Sensazione Per cui Siamo contenti Di poterlo fare Al Picchio Village Perché Io sono tre anni Che sto qui E anche la società La ritiene Ad oggi Non avendo una casa Nostra Sicuramente Quello è Il nostro Il nostro Fortino Perché poi Abbiamo costruito Lì la promozione Speriamo di costruire Perci anche Il raggiungimento Di questi playoff Bene Noi parliamo di eccellenza L'eccellenza È la categoria La porta D'accesso Alla serie D Andiamo in serie D Ma a vedere Il servizio Tra due squadre Che invece Che dalla serie D Scenderanno In eccellenza La partita è quella Tra Olimpia Agnonese Porta Sant'Elpidio È finita Lo vediamo nel servizio Poi Siamo di nuovo qua Caldaia sicura Riprendono gli accertamenti Agli impianti termici In base alla normativa vigente Gli impianti termici Devono essere sottoposti Al controllo di efficienza energetica E ad una regolare manutenzione Se un impianto termico Non funziona bene Ci sono grossi rischi Per la sicurezza delle persone E per la tutela dell'ambiente Un impianto efficiente Permette di risparmiare Fai la manutenzione periodica Della tua caldaia Metti al sicuro Te e la tua famiglia E non incorri In spiacevoli sanzioni Rivolgiti subito Al tuo manutentore di fiducia La tua sicurezza È il bene più importante MPSPA Meglio E prima Spida tra retrocesse Sul manto insintetico Del Civitelle 11 punti per i molisani Uno in meno per i viaggianti Il peggior attacco 16 reti Quello del porto Sant'Elpidio Contro la difesa Quella dei molisani Perforata 71 volte In stagione Olimpia priva Dei bomber argentini Sosa Infortunato E mai Squalificato Spazio dall'inizio In avanti A Sapone Sbordone E Bartoli Più dietro Ottavio Palladini Per il suo atletico Si affida al modulo 4-3-3 Ospiti In tenuta Azzurra Squadra giovanissima Se si esclude Il trentenne Capitan Spagna Dirige l'arbitro Luca Salvatici Della sezione Di Rovigo Dopo 5 giri Di lancette Sponda Lagnonese A destra Respinta corta Dei marchigiani Si avventa Pejic Che scarica Un fendente Forte Ma impreciso La gara È a senso unico Bartoli Sul suo binario Non ha ostacoli Assista al bacio Per Sapone La palla Finisce Nella piazza Del paese I Granata Non danno respiro Agli ospiti Nei primi 20 minuti Ha solo Del centro D'antispagna Tra le maglie Avversarie Il sinistro In largo Ma per il porto È un segnale Di coraggio Destro Interessante Di Sapone Direttamente Su punizione Cavaliere Corregge in angolo L'insidia Della punta Di casa Si resta Sullo 0 a 0 Indirittura Ad arrivo Della prima Frazione L'Olimpia Trova Il meritato Vantaggio Gli azzurri Si fanno trovare Impreparati Ne approfitta Carnevale Che n'esca Sapone Il numero 9 Si invola Verso la porta Di Cavaliere Lo fulmina Dall'interno Dell'area A rientro Negli spogliatoi Agnionese 1 Porto Sant'Epidio 0 Inizia Con le marce Alte La formazione Della provincia Di Fermo Nello stretto Gelsi Elude un paio Di avversari Scarico Per Perri Che però Non è letale Dinanzi A Caputo Dall'angolo Di Orazzi Flipper Impazzito In area Di porta Dei Molisani La difesa Si salva Ancora In corner Il primo cambio Avviene Al sedicesimo Cesetti Per Gusteri Negli Adriatici Entrambi Classe 2002 I locali Rispondono Con Dercole In sostituzione Di Sbordone La partita È giocata Soprattutto Nella zona Mediana Pochi Sussulti Tra le due Tiri Impettaie La cifra Tecnica Della contessa Si abbassa L'Atletico Fa più la partita Ma non riesce A raddrizzare La gara Sfera buona Per Giulio Al trentanovesimo Al limite Dell'area Parata Non impossibile Per Caputo Ancora I marchigiani Con Zira Che regge All'urto Di Litterio Caputo È ben appostato Sul primo palo E ricaccia Indietro I biancazzurri Dopo cinque minuti Di recupero Salvatici Dice che può bastare Secondo successo Consecutivo Per l'Olimpia Che sale a 14 punti Domenica prossima Per la quattordicesima Di ritorno I Granata Ospiteranno I laziali Del Fiuggi Ancora Civitelle Il porto Sant'Empidio Viaggerà invece Alla volta di Campobasso Contro la Capolista L'autonoleggio Alidama È il leader Nel settore Del noleggio A breve e lungo termine La nostra flotta È costituita Da utilitarie Medie E alta gamma Per aziende Privati E professionisti Inoltre Disponiamo Di van Minivan Furgoni Furgoni Frigo E pulmini In nove posti Autonoleggio Autonoleggio Alidama Qualità e assistenza Nell'autonoleggio Ed eccoci di nuovo Ed eccoci di nuovo in onda cari amici Cari amici cari amiche delle Marche nel pallone Se vi mettete in visione solamente adesso della nostra trasmissione stiamo parlando del campionato di eccellenza Marche siamo con gli ospiti dell'atletico Ascoli capitanati da Mario Marzetti direttore sportivo della società Picena e Mauro Iori nato a Camerino lavorante ad Ancona ma giocante come player come centravanti ad Ascoli Picena quindi non so io quanti chilometri farà spero per lui che abbia la macchina a metano o abbia un elicottero che gli permetta il teletrasporto detto questo un in bocca al lupo all'Olimpia agnonese ovviamente al Porto Sant'Elpidio squadre che dalla Serie D scendono in eccellenza e non l'ho detto prima ma mi è venuta in mente guardando la maglietta dell'Olimpia agnonese che è granata come quella del Fano in bocca al lupo di cuore al Fano che ieri purtroppo nel doppio confronto contro Limolese non è riuscita a vincere e quindi è scesa in Serie D purtroppo, purtroppo allora continuiamo a parlare del mondo dell'atletico Ascoli l'atletico Ascoli che poi è una sorta di erede del vecchio Ciabbino qualche anno fa c'era il Ciabbino l'unica spada che non sono riuscito a portare in trasmissione comunque il Ciabbino avevo parlato con il Presidente ma non ci sono riuscito i progetti sono ambiziosi siete una neopromossa però siete una realtà solida e con progetti ambiziosi l'abbiamo detto la Serie D se non è quest'anno sarà a breve giro di scadenza e oltre a questo con quali altri strumenti vorrete ottenere i vostri obiettivi cercate di ottenere i vostri obiettivi gli obiettivi cerchiamo di raggiungerli in primis con l'organizzazione in questo ci tengo a ringraziare tutte le persone che collaborano prima ho sentito da te Luca Gabrielli che ne è una ma ce ne sono veramente tante che ci girano intorno ma che abbiamo scelto e che continuiamo a scegliere in ogni ambito per cui il primo punto è l'organizzazione poi sicuramente quando scegliamo le persone le scegliamo anche per le loro competenze e abbiamo come società ci siamo dati un punto fondamentale che è quello del rispetto dei ruoli per cui mi trovo bene qui lavoro bene perché comunque ognuno sta al proprio posto ognuno porta avanti il proprio lavoro e quello credo che in una società direttantistica non è veramente facile trovarlo a partire dalla società che con i giusti modi ci trasmette quelli che sono gli obiettivi ci lascia lavorare ci dà gli giusti spazi per mettere sul campo le nostre competenze poi ci si riesce bene, meno bene questo sicuramente però ci confrontiamo parliamo tanto e credo che sia raro nei direttanti per cui veramente c'è soddisfazione da parte di tutti e ogni giorno si va al campo con entusiasmo Mauro è qui da poco ma spero che anche tramite loro si noti questo entusiasmo questa presenza questa voglia di raggiungere senza fare pazzie perché poi quando si fa il passo più lungo della gamba si tende sempre a fare errori quindi ci siamo dati quando eravamo in promozione ci eravamo dati tre anni per arrivare in eccellenza ci siamo riusciti con un anno d'anticipo per arrivare in 10 ci vorrà del tempo se magari sarà adesso ok saremo contenti se non sarà sicuramente il percorso continuerà anche perché poi la rosa che abbiamo costruito è una rosa con una medietà bassa per cui questo era Mario senti scusa che si interrompo però hai parlato di organizzazione quindi mi viene in mente innanzitutto che al vertice dell'organizzazione tutto ciò non sarebbe possibile se non ci fosse un presidente solido e appassionato come Romano Diamanti prima cosa giusto? quindi diamo anche i nomi diamo anche merito il presidente romano diciamo cosa dice questo presidente? si è traslato dal ciabino all'Atletico Ascoli è una persona splendida ma ci tengo a precisare che l'Atletico Ascoli è costruito da è sorretto da una base solida che è la presenza di diversi soci imprenditori ascolani che stanno mettendo oltre la parte economica che è il supporto che danno ma c'è un supporto morale una presenza perché oggi solo in tribuna oggi contavo 4 o 5 soci quindi non è non è soltanto il supporto economico ma un supporto morale un supporto presente e quindi questa è la forza di questa società che culmina in Romano che culmina in una famiglia Giordani che ci supporta da anni che culmina in tutti gli altri imprenditori che ad oggi non cito perché ne sono tanti ma che fanno parte non sono sponsor ma sono diventati soci da qualche mese di questa società e quindi il lavoro che sta facendo soprattutto diciamo la famiglia Giordani è quella di aver attirato dentro tutti questi soci ascolani che hanno sposato la causa ma perché c'è dentro non solo la prima squadra ma c'è dentro un settore giovanile che ad oggi ci dà soddisfazioni e speriamo che ce le dia anche in futuro cercando di di portare dentro alla prima squadra diversi se non due terzi mi dicevamo in società forse un sogno fra qualche anno ma di componenti della squadra che vengono dal settore giovanile perché ascolanità sì ascolanità ma perché avete anche la piazza come simbolo la piazza di Ascoli del popolo avete proprio nel logo anche nella mancherina quello è per richiamare anche un po' l'aspetto sociale che dicevamo prima perché poi comunque dare questo servizio a tutti questi ragazzi a tutte queste famiglie credo che sia qualcosa di importante ma si può soltanto se dietro c'è una base solida e questa base l'hanno creata tutti i soci che hanno aderito a questa società che si chiama ad oggi Atletico Ascoli e io la vedo con un futuro non lungo ma lunghissimo ok se andate sul sito dell'Atletico Ascoli a maggior riprova di quanto detto dal direttore Mario Marezzetti troverete una sorta di decalogo insomma di valori morali che contraddistinguono questa società e che trasmettono al settore giovanile che ho già detto è completo dalla Juniors ai piccoli calci spirito di squadra e di appartenenza il rispetto dell'altro l'integrazione sociale l'affermazione del merito la lealtà e via discorrendo tutti i valori che dovrebbero e secondo me devono contraddistinguere chiunque faccia sport Mauro hai 26 anni secondo me hai speso un po' troppo tempo però nelle categorie dilettantistiche promozione prima categorie finalmente è venuto il momento in cui qualcuno si è accorto di te ti ha portato in eccellenza con la speranza di far valere il tuo valore scusa il gioco di parole sia in eccellenza sia in Serie D è anche una vetrina questa per te perché hai fatto tanti gol anche lo scorso anno 17 mi sembra è ora che esplodi insomma questo voglio dire speriamo speriamo appunto ringrazio Mario perché è stato lui a volermi all'Atletico la scelta la scelta di fare questi campionati diciamo minori è stata quella per maturare perché ho avuto l'opportunità appunto di giocare con continuità e ho fatto questa scelta poi dopo lavorando ho dato diciamo come si dice valore al tempo esatto all'attesa all'esperienza alla maturazione esatto ho puntato un po' più sul lavoro adesso che ho avuto questa opportunità spero di cogliere al massimo e di affermarmi anche in questo campionato comunque credo di fare un buon campionato quindi ecco speriamo anche il prossimo anno di ripetermi credici Sara Mario dicevamo l'aspetto naturalmente fisico quindi sarà fondamentale ma quello psicologico ancora di più e voi domani vi presenterete gli allenamenti super carichi sì per forza dobbiamo presentarci super carichi sicuramente il risultato incide ma il fatto che dicevo in macchina a Mauro prima che il fatto di rigiocare mercoledì può essere un vantaggio e ripartiremo da quello che diceva prima il mister ho sentito l'intervista che abbiamo trasmesso qui che ripartiamo dalla prestazione perché oggi la prestazione nei 90 minuti c'è stata e quindi ripartiremo da quello e sicuramente con l'entusiasmo e la voglia giusta per ottenere il risultato mercoledì contro il Porto Ascoli Mauro quanto pensi che il mister invece punterà proprio sull'approccio sull'aspetto mentale psicologico credo che che ci punterà molto perché appunto la squadra sta bene fisicamente quindi ecco credo che ci toccherà le corde giuste per motivarci e fare bottino pieno mercoledì ma io ne sono sicuro perché mister Aloisi è un mister esperto competente ha un passato di giocatore in Serie A con l'Ascoli con la Regina con il Torino quindi è un bravo allenatore che saprà sicuramente toccare le corde giuste Mario per chiudere una domanda che io faccio a tutti i direttori sportivi perché sono curioso vorrei che mi facessi il nome di qualche giocatore che ti è piaciuto in questo scorcio di torneo in queste otto partite anche possibilmente di under di giovani chi ti è piaciuto? under posso dire un mio giocatore certo voglio citare due giocatori miei Albertini e Felicetti perché ma Albertini il portiere poi è un pezzo che ce l'avete no? sì quindi sono tre anni è venuto è arrivato il primo anno che sono arrivato io qui abbiamo fatto facemmo scherzavamo l'altra sera al campo perché lui veniva da una juniores quindi io lo conoscevo parlamo il progetto su di lui era tutt'altro era quello di maturare con calma poi alla quinta giornata si ritrova titolare e da lì abbiamo costruito questo ragazzo per cui mi faceva piacere citarlo perché credo che sia uno dei migliori under che ho visto questo campionato poi avercelo in porta ancora un maggior valore è un valore aggiunto per quanto riguarda giocatori si citava prima Palmieri oggi mi è piaciuto veramente tanto ottimo giocatore ma citarne uno altri ce ne sono veramente in questi due gironi ci sono veramente tanti giocatori di credo di categoria superiore quindi preso così posso dire Napolano Porto d'Ascoli posso dire ma potrei dire anche altro visto San Giusto contro di noi fece tre o quattro campi il secondo tempo mettendo ganci mettendo Olivieri quindi davvero dei giocatori ce ne sono non sembrerebbe un'eccellenza ecco quindi dimmi l'ultima cosa velocemente che rapporti ci sono tra l'atetico Ascoli e Lascoli ottimi rapporti ci alleniamo sul campo dell'Ascoli e giochiamo sul campo vi prestano i giocatori della primavera per farli maturare sì nel senso ne abbiamo tanti che escono dall'Ascoli ma da quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa quindi di non prenderli in prestito ma tutti gli andere che abbiamo noi sono di proprietà quindi abbiamo fatto con loro diciamo una collaborazione loro hanno preso qualche ragazzino del settore giovanile nostro che sta lavorando nei campionati nazionali e noi abbiamo diciamo in cambio preso qualche under che era un po' era il Felicetti che ho citato ma ne abbiamo tanti altri abbiamo Santoni abbiamo Mattei abbiamo Calvaresi Mariani Marco che è il 2002 che gioca sono tutti i ragazzi che provengono dall'Ascoli quindi la collaborazione è ottima e il fatto che noi giochiamo torniamo a giocare lì penso che è un segnale poi lo sponsor che abbiamo sulla maglia nostra c'è anche lo sponsor c'è lo stesso sponsor della primavera dell'Ascoli il nostro diciamo main sponsor eh sì sarebbe quindi Graziano Ricami è anche sponsor della primavera per cui sono diciamo sono quei tasselli che migliorano la collaborazione sicuramente non c'è mai stato uno screzzo per cui una sorta di comunione di condivisione di amicizia per non dire di più tra le due società ci sarebbero tante altre domande da porre ai dirigenti giocatori dell'Atletico Ascoli ma li riavremo sicuramente presto in trasmissione questo è stato un primo quasi sondaggio esplorativo per conoscere il mondo dell'Atletico Piceno un bel mondo Atletico Ascoli pardon Atletico Piceno era una squadra sempre di Ascoli di qualche anno fa comunque è stato un sondaggio conoscitivo di questa bella giovane realtà con progetti importanti per cui io ringrazio non solo la società ma ringrazio i qui presenti Mario Marzetti direttore sportivo dell'Atletico Ascoli Mauro Iori attaccante dell'Atletico Ascoli saluto ovviamente Sara Santacchi che non gioca nell'Atletico Ascoli ma gioca nella squadra di TVRS e vi do appuntamento a domenica prossima però rimanete con noi perché adesso ritorna Andrea che ha montato i servizi a tempo di record con gli ultimi risultati le ultime novità di questa giornata di sport ciao ed eccoci gentili telespettatori alla terza parte della nostra trasmissione dunque ridiamo un'occhiata ai risultati dei playoff di Serie C le partite si sono giocate nel tardo pomeriggio peraltro vi abbiamo già anticipato in linea di massima quelli che sono stati i risultati l'Avellina battuto per 2 a 0 il Suttirol la partita si è decisa nel secondo tempo con le reti al 72esimo di Tito e al 79esimo di Santaniello la Feralpi salò battuto per 1 a 0 l'Alessandria la rete che ha deciso l'incontro è stata realizzata dopo appena 20 minuti da scarsella un grande protagonista in Renate Padova 1 a 3 vittoria quindi in trasferta dei Biancoscudati l'ex giocatore dell'Ascoli Chiricò autore di una tripletta al sesto e dal 22esimo del primo tempo e al settimo del ripreso il gol della bandiera della formazione Lombarda è arrivato al quarto minuto di recupero ed è stato messo a segno da Cabasci è finita 1 a 1 invece tra Albinoleffe e Catanzaro con i calabresi in vantaggio al 17esimo del secondo tempo grazie a Carlini il pareggio dei Bergamaschi è arrivato a 9 minuti dalla fine ed è stato messo a segno da Mondonico mercoledì prossimo 2 giugno si giocheranno le gare di ritorno alle 16.30 avremo Alessandria Ferralpi-Salò Catanzaro Albinoleffe e Padova-Renate mentre alle 17.30 su Tirol Avellino e poi ci saranno le Final Four ovviamente con semifinali e finali per decretare la quarta squadra che farà compagnia Como-Perugia e Ternana per la promozione in Serie B andiamo a vedere invece ora il servizio sull'altro recupero che si è giocato nel pomeriggio del campionato di Serie D oltre ad Olimpia-Agnonese Porto-Santelpidio vale a dire Aprilia-Giulanova con la vittoria di misura della formazione laziale vediamo Buon pomeriggio a tutti voi dal campo Quinto Ricci di Aprilia da Carlo Eroardo Canepone stanno entrando in campo Aprilia e Real Giulianova ma prima dell'inizio della gara verrà consegnata una targa al campione dell'Aprilia Ruben Olivera che come tutti ormai sapranno ha dato l'addio al calcio giocato più di 400 presenze in carriera con 70 gol ha vissuto anni straordinari in Serie A ha indossato la maglia della propria nazionale l'Uruguay ha fatto innamorare Aprilia e i propri tifosi grazie di tutto Ruben questa la targa che è consegnata a Ruben Olivera un campione che ha giocato in grandi squadre fischetto in bocca del signor Bruno Spina comincia la partita tra Aprilia e il Real Giulianova primo possesso in favore dei giallorossi e gli strappa il pallone attenzione perché recupera sulla tre quarti l'Aprilia c'è un po' di spazio per Succi che fa con il sinistro parata bassa di Mora pala centrale Barlafante sul sinistro Barlafante si crea lo spazio tiro smorzato facile per Salvati perde qualche metro il Giulianova che però rimane nei pressi dell'area poi le tiro e il palo da parte di Massetti improvviso il destro delle numero 11 che ha colto impreparato Salvati che viene salvato dal palo Laghigna cerca lo spazio per il sinistro ancora Laghigna fa tutto bene Laghigna palla fuori di nulla ma si prende tanti applausi dalla tribuna Eric Laghigna il dubbio Fischio si va al riposo con il risultato di Aprilia 0 Giulianova 0 Forcini stoppa il pallone pensa al tiro poi scarica dietro per il destro da parte di De Cerchio palla alta lontana dai pali Bosi che mette giù punta Tedone ancora Bosi sterza contro sterza poi si ferma palla interessante e c'è il calcio di rigore per l'Aprilia è andata a terra mi è sembrato pesone mentre arriva anche il giallo per caso parte Vasco intuisce Mora ma non basta l'Aprilia è avanti realizza dal dischetto Lorenzo Vasco subentrato da 15 secondi al posto di Succi si prende la responsabilità di battere il rigore e lo realizza battendo Mora al ventunesimo ormai del secondo tempo D'Antonio puntaglietti dietro per De Cerchio fa partire il destro palla larga non di molto c'è spazio quindi per il Giulianova con Barlafante che tocca con il destro e la palla scivola al lato di nulla grandissima chance per il Giulianova 1 2 3 eccoli qua i tre fischi vince l'Aprilia 1 a 0 contro il Real Giulianova decide il rigore di Vasco a metà ripresa Aprilia che sale a quota 38 punti in classifica Giulianova che rimane terz'ultima ma comunque salva a quota 28 e questo dunque era il servizio sull'altro recupero che si è giocato oggi pomeriggio nel campionato di Serie D Girone F ricordiamo la sconfitta del Porto Sant'Elpide D'Agnone per 1 a 0 una sconfitta che condanna virtualmente la formazione bianco-azzurra all'ultimo posto in classifica peraltro la retrocessione delle due squadre era matematica da tempo siamo in conclusione vi ricordo gli appuntamenti con il calcio sui nostri canali domani in prima serata sul canale 11 il salotto del pallone il grande calcio nazionale non solo a cura di Riccardo Est una produzione Lea News mentre sul canale 111 alle 20 e 15 la telecronaca per il campionato di eccellenza del match tra Valdichienti Ponte ed Atletico Ascoli poi alle 22 vi proponiamo la replica del match molto interessante semifinale di ritorno calcio a 5 di serie B tra SKL Ascoli Piceno e Propatria San Felice le marche nel pallone invece verranno riproposte domani a mezzogiorno e mezzanotte sul canale 111 alle 20 e 30 sul canale 675 poi come nostra consuetudine la trasmissione sarà disponibile sul nostro account youtube utvr a partire da domani pomeriggio è davvero tutto grazie per essere stati con noi appuntamento a domenica prossima grazie a voi tutti di averci seguito appuntamento alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti in collaborazione con Dental City studio dentistico specialistico e CityMed poliambulatorio specialistico via Mainini 79 Monte Cassiano autonoleggio Alidama qualità e assistenza nell'autonoleggio i due re ristorante pizzeria lungomare Piermanni Civitanova Marche per l'autonoleggio per l'autonoleggio